La Locanda della Tormenta presenta il Chibalion dei tre iniziati. Buon ascolto. Capitolo I La filosofia ermetica Le labbra della saggezza sono solo aperte alle orecchie della comprensione. Le dottrine ermetiche che per secoli hanno lasciato la loro impronta nel pensiero filosofico di tutti i popoli di tutto il mondo hanno la loro radice nell'antico Egitto. Ivi, tra piramide e sfinge, nacquero le dottrine mistiche della sapienza eterna, dalle cui fondamenta mosse ogni altro insegnamento, proveniente dall'India, dalla Persia, dalla Caldea, dalla Media, dalla Cina, dal Giappone, dall'antica Grecia e da Roma. Tutti si nutrirono del frutto del sapere che i grandi maestri di Egitto avevano accumulato per millenni per coloro che erano in grado di comprenderlo. Dall'epoca del grande ermete nessun sapiente è riuscito a raggiungere le vette della saggezza dei maestri dell'antico Egitto, dove si trovava la grande loggia delle logge della mistica. E' da quel tempio sacro che giunsero i neofiti, che poi divisi in gerofanti, maestri e adepti, vagarono nel mondo, portando con sé tutto il retaggio della sapienza occulta, pronti a renderne partecipi tutti coloro che erano pronti a riceverlo. Ad essi e ai loro meriti si rivolge tuttora con riverenza ogni studioso di scienze occulte. Ma sebbene i maestri dell'antico Egitto fossero grandi, uno solo di essi meritò l'appellativo di maestro dei maestri. La sua memoria si perde nella notte dei tempi. Pare che fosse padre della scienza occulta, come anche fondatore dell'astrologia e dell'alchimia. Dato l'enorme numero di secoli trascorsi, non si conosce con esattezza la sua vita, anche se parecchi paesi, già da migliaia di anni, si contendono il privilegio di avergli dato i Natali. La sua ultima incarnazione sembra essere avvenuta in Egitto, in data fissata da secoli dalle più remote dinastie di quel paese, assai prima dell'avvenuta di Mosè. Da fonti attendibili risulta poi essere stato contemporaneo di Abramo, di cui forse fu il maestro. Secondo la tradizione, la sua esistenza terrena fu di 300 anni. Alla fine passò ad altro piano di vita e fu deificato. Divenne così il dio Thoth, ripreso poi dai Greci, tra le altre deità, come Ermete, dio della saggezza. Quanto agli egiziani, per secoli lo adorarono chiamandolo Scriva degli dèi e restituendogli il titolo di Trismegisto o Trevolte Eccelso, o Il Grande dei Grandi. Il suo nome fu sinonimo presso ogni popolo di Fonte di Saggezza. Se riguardiamo un attimo il nostro linguaggio, potremo notare che è tuttora in uso il termine ermetico, a indicare una cosa segreta, nascosta, derivando dalla segretezza usata dai seguaci di Ermete nella divulgazione dei loro insegnamenti. Fu infatti loro premura non gettare le perle ai pali, ma osservare la regola che dice Latte ai bimbi, carne all'uomo forte, massime del resto ben note ai lettori delle sacre scritture cristiane, già in uso parecchi secoli prima. È questa una sua riservatezza, la caratteristica tutt'oggi più saliente della dottrina ermetica. Essa, pur diffondendosi in ogni paese o religione, non ne prese nessuno come fissa dimora, dato il pericolo, espresso dai primi maestri, di cristallizzarla in un credo fisso. Questo fu un consiglio ben saggio se si guarda all'antico occultismo indo-persiano, che si imbastardì e andò quasi completamente distrutto, perché i maestri si trasformarono in preti e mischiarono teologia e filosofia, degenerando nella superstizione e nelle sette religiose. Ne abbiamo un chiaro esempio nell'ermetismo degli ignostici e dei primi cristiani, distrutto con l'avvento di Costantino, che confondendo teologia e filosofia, soffocò quest'ultima, togliendo nella primitiva, più vera sua essenza. Così, per secoli il cristianesimo mosse passi incerti, e soltanto oggi si possono notare tentativi di riportarlo all'antica purezza. Pur tuttavia, in ogni secolo c'è stato qualche fedele che ha tenuto gelosamente in serbo l'antica fiamma, evitandone l'estinzione. Ed è grazie ad essi che l'antica dottrina della verità non è andata perduta. Essa non fu scritta, è passata di bocca in bocca, dal maestro all'allievo, dall'iniziato aglio ierofante. Non appena fu fatto il tentativo di metterlo su carta, si trasformò in vaghi termini di alchimia e astrologia, comprensibili solo a pochi. Ciò si rese indispensabile, onde evitare le sanguinose repressioni compiute dai teologi medievali, che l'osteggiarono con roghi, torture e con la croce. Purtroppo, sebbene la filosofia ermetica sia l'unica chiave capace di schiudere i segreti dell'insegnamento occulto, anche oggi pochi sono i buoni libri di filosofia tra i tanti scritti. L'antica compilazione dei fondamenti dell'ermetismo, tramandata da maestro a scolaro, prese il nome di Chibalion, termine di cui si è perso l'esatto significato. I suoi precetti, trasmessi oralmente attraverso i secoli, non sono altro che una raccolta di massime, incomprensibili alle masse, e chiari solo a quegli studiosi cui erano stati spiegati dagli iniziati. Essi costituiscono l'arte dell'alchimia ermetica, che contrariamente a quel che si crede, si volge al piano mentale e non a quello materiale, alla trasposizione delle onde mentali in altre specie di vibrazioni e non alla trasmutazione da un metallo all'altro. Così, la famosa leggenda della pietra filosofale con cui si tramutano i metalli in oro non è altro che un'allegoria ben chiara ai veri studiosi di ermetismo. In questa prima lezione di ermetismo, noi, che altri non siamo se non umili scolaretti di fronte alla grandezza di ermete, malgrado portiamo il titolo di iniziati, invitiamo i lettori a riflettere sulle dottrine ermetiche, esponendone gli insegnamenti con illustrazioni e spiegazioni, che speriamo siano capaci di trasmettere al moderno studioso il pensiero della verità, dato che il testo originale è di proposito assai oscuro. Quanto ai precedenti originali, essi si riconosceranno, dato che verranno divulgati con uno speciale riverbero. Scriviamo, nella speranza che coloro che ascolteranno queste parole ne ricaveranno beneficio, come già è accaduto per i molti che ci hanno preceduto per lo stesso sentiero verso la sapienza infinita tanti secoli or sono, a partire dal grande dei grandi, ermete trismegisto. Vi diamo ora un breve cenno di alcune massime del Chibalion. Allorché si ode il rumore dei passi del maestro, si aprono le orecchie di coloro che sono pronti a riceverne l'insegnamento. Quando le orecchie dello studioso sono pronte per l'ascolto, vengono allora le labbra a riempirle di saggezza. Per cui questo testo sarà immediatamente captato solo da coloro che sono pronti a comprenderne l'essenza. Non appena l'allievo sarà pronto per la verità, questo lavoro giungerà a lui. Così si vuole che sia, per il principio ermetico di causa ed effetto, nel suo specifico aspetto di legge di attrazione. Capitolo secondo I sette principi ermetici I principi ermetici sono sette. Colui che ne ha la conoscenza possiede la chiave magica con la quale si aprono tutte le porte del Tempio. Questi sono i sette principi su cui si basa tutta la filosofia ermetica. Il primo è il principio del mentalismo. Il secondo è il principio della corrispondenza. Il terzo è il principio delle vibrazioni. Il quarto è il principio della polarità. Il quinto è il principio del ritmo. Il sesto è il principio di causa ed effetto. E il settimo è il principio del genere. Ve ne daremo ora solo alcuni cenni, ripromettendoci di spiegarli più esaurientemente nel corso di queste lezioni. 1. Il principio del mentalismo Tutto è mente L'universo è mentale Secondo questo principio, il tutto, ovvero quella realtà esistenziale che sta alla base di ogni manifestazione esterna, generalmente definita come fenomeno vitale, materia, energia. Insomma, tutto ciò che percepiamo coi sensi materiali non è altro che spirito inconoscibile, che sebbene non definibile, può essere considerato come mente universale, vivente e infinita. Tutto l'universo, quindi, non è che una creazione mentale del tutto, soggetto alle sue leggi. E sia globalmente che in ogni singola parte, questa creazione di cui noi facciamo parte esiste nella mente del tutto. Grazie a questo principio ci si possono spiegare tutti quei fenomeni psichici che tanto scalpore suscitano nell'uomo, pur restando sempre al di fuori del campo della scienza. Comprenderlo significa rendersi capaci di usare le leggi dell'universo mentale a proprio vantaggio, difendendosi dal pericolo di usarle in maniera causale. Grazie a questa prima chiave del sapere, lo studioso può entrare nel tempio della conoscenza mentale con passo sicuro. Essa infatti spiega la natura profonda della forza, dell'energia, della materia e la loro relazione con la mente. Scrisse infatti uno dei grandi maestri, chi afferra l'essenza della natura mentale dell'universo è assai progredito sul sentiero della sapienza. E possiamo anche considerare questa massima ancora valida, perché senza questo primo principio, in vano si tentano le porte del tempio. 2. Il principio di corrispondenza Tra le leggi e i fenomeni dei diversi piani di vita c'è sempre una corrispondenza. Comprendere questa regola significa risolvere molti dei tanti paradossi e dei segreti della natura. Anche se al di sopra della nostra portata vi sono molti piani d'essere, con l'applicazione di questo principio della corrispondenza ne possiamo scoprire molti lati che altrimenti rimarrebbero scuri. Inoltre, essendo questa una legge universale, essa vale su tutti i piani, materiale, mentale e spirituale. La sua importanza presso gli ermetisti era tale da essere considerata uno dei mezzi mentali più efficaci per l'eliminazione degli ostacoli che impedivano al nostro sguardo di infrangere i muri del mistero. Grazie alla sua applicazione si riuscì ad intravedere il volto dell'Egizia Iside e si imparò a passare con intelligenza dal noto all'ignoto. Un po' come accade con i principi geometrici, in base ai quali si possono misurare da lontano le dimensioni, le distanze e i movimenti di soli e pianeti. Con lo studio della monade, l'ermetista comprende l'arcangelo. 3. Il principio della vibrazione Tutto si muove! Tutto vibra! Niente è inquiete! Gli enunciati di questo principio, che vengono sempre più confermati dalla scienza moderna e dalle sue ricerche, erano già conosciuti migliaia di anni fa dai maestri dell'antico Egitto. Con esso sono spiegabili le divergenze tra le varie manifestazioni della materia, dell'energia, della mente ed anche dello spirito, tutte riconducibili ai diversi quanta di vibrazione. Dunque, tutto vibra, dalle forme più rozze di materia al tutto, lo spirito assoluto. Più è alta la vibrazione, tanto più elevata la posizione sulla scala della spiritualità. Lo spirito, poi, vibra così intensamente, che sembra in pieno riposo, proprio come una ruota gira a volte tanto velocemente da sembrare ferma. Allo stesso modo, all'altro capo della scala stanno forme di materia così rozze che la loro vibrazione è talmente esigua da sembrare in riposo. Dai neutroni agli elettroni, dagli atomi alle molecole, per giungere fino ai mondi e agli universi, tutto vibra. Lo stesso discorso si può fare per l'energia e la forza, che assumono la loro denominazione proprio dai diversi gradi di vibrazione, come anche per i piani mentali, dalla cui vibrazione dipendono i loro stati, ed infine sui piani spirituali. Tenere a mente questo principio e le leggi che lo regolano fa sì che gli ermetisti possano riuscire a controllare le proprie e le altrui vibrazioni mentali. Lo stesso principio vale poi per esercitare un certo potere sui fenomeni naturali. Chi comprende questa grande regola ha in mano lo scettro della potenza, così dice uno scrittore antico. 4. Il principio della polarità Tutto è duale, tutto è polare, per ogni cosa c'è la sua coppia di opposti. Come simile e dissimile sono uguali, gli opposti sono identici per natura e differiscono solo di grado. Così gli estremi si toccano. Tutte le verità non sono che mezze verità, e ogni paradosso può essere conciliato. Grazie a questo antichissimo assioma ermetico si può avere una spiegazione per quei paradossi che per tanto tempo hanno tenuto in dubbio l'uomo e che possono essere così esplicati. Tesi e antitesi hanno uguale natura, ma sono diverse per grado. Oppure anche, gli opposti sono identici, differiscono solo di grado, cosicché possono venire conciliati e gli estremi finiscono col toccarsi. Nello stesso tempo ogni cosa è e non è. Ogni verità non è che mezza verità. Tutte le verità sono per metà false. Ogni cosa ha due lati. E così via. Sono questi esempi della polarità di tutto ciò che è in natura, del fatto che gli opposti non sono altro che i due estremi della stessa cosa, ma con diverse variazioni di grado, proprio allo stesso modo in cui caldo e freddo, consistendo la loro diversità solo in differenza di grado, sono in realtà identici, sebbene opposti. Potete, forse voi, guardando il vostro termometro, scoprire dove termina il caldo e comincia il freddo? Niente esiste di caldo-freddo assoluto. Sia l'uno che l'altro termine stanno per diversi gradi della stessa cosa, che a sua volta non è che una variante ed un grado di vibrazione, per cui dire caldo o freddo non è altro che il riferirsi rispettivamente ai due poli della stessa cosa. Anche nel caso della luce e dell'oscurità vale lo stesso discorso. Esse sono uguali, consistendo la loro differenza nella diversità di grado manifestatesi tra i due estremi del fenomeno. Chi può dire infatti dove termina l'oscurità e da inizio la luce? Quale differenza esiste tra il grande e il piccolo o il duro e il tenero, il bianco e il nero, l'acuto e l'ottuso, il movimento e la quiete, l'alto e il basso, il negativo e il positivo? Ognuno di questi paradossi ha la sua spiegazione nel principio di polarità e solo in esso. Un discorso analogo può essere fatto per il piano mentale. Ad esempio, esaminiamo l'amore e l'odio. Sono questi stati mentali, a prima vista, del tutto all'antitesi. Malgrado ciò, tra i vari gradi di odio e di amore, c'è un punto intermedio in cui diciamo piacere o dispiacere, o anche nell'uno nell'altro. Per capire che ognuno di essi si riferisce alla stessa cosa, basta riflettere un attimo. Inoltre, tenetelo bene a mente, perché è questa una regola di capitale importanza per gli ermetisti, si possono cambiare le vibrazioni d'odio in quelle d'amore e viceversa, e non solo nel proprio spirito. È probabile che molti fra coloro che ascoltano queste parole abbiano avuto un'esperienza diretta della rapidità con cui si può passare dall'amore all'odio e da questo all'amore. Essi si saranno certamente resi conto che ciò è possibile grazie all'uso della volontà, ovvero con l'ausilio di insegnamenti ermetici. Bene e male, abbiamo detto, non sono che i poli della stessa cosa, e nessuno quanto uno studioso ermetico è a conoscenza dell'arte di trasmutare il male in bene, in base all'applicazione del principio polare. Per concludere, l'arte della polarizzazione finisce col divenire una fase dell'alchimia mentale, nota e praticata dai maestri antichi e attuali. Rendersi padroni di questo principio significherà per ognuno poter invertire la propria polarità ed anche quella altrui, naturalmente dopo una lunga applicazione ed uno studio adeguato. 5. Il principio del ritmo Ogni cosa fluisce, rifluisce, ogni cosa ha fasi diverse, tutto salza e cade, in ogni cosa è manifesto il principio del pendolo, l'oscillazione di destra è pari a quella di sinistra, tutto si compensa nel ritmo. È questo il principio con il quale si comprende che in ogni cosa c'è un movimento, un moto che rifluisce, una simmetria eterna tra i due poli. Così esisterà sempre per ogni azione una reazione, per ogni innalzamento un abbassamento. Ciò vale per ogni cosa, per i pianeti, i soli, l'energia e la materia, come per gli uomini, gli animali e la mente. La potenza di questo principio regolatore può rinvenirsi nella creazione, nella distruzione dei mondi, nello sviluppo e nella corruzione dei popoli ed anche negli stati mentali umani grazie ai quali l'ermetista comprende il principio più importante e riesce a neutralizzarne gli effetti. Ciò avviene per mezzo della legge mentale della neutralizzazione. Se non si può annullare il principio o almeno arrestarlo, si può sfuggire in parte ai suoi effetti. Questa è l'arte degli ermetisti, compreso il principio imparare ad usarlo invece che subirlo. Quindi, se l'ermetista si polarizza su un certo punto, neutralizza la forza ritmica del pendolo che oscillando tenderebbe condurlo all'altro polo. Se è vero che quasi tutte le persone che hanno raggiunto un certo autocontrollo riescono ad esercitare in parte questa funzione, il maestro lo fa volontariamente, raggiungendo quel grado di equilibrio e forza mentale che risulta incredibile alla massa, sempre oscillante, proprio come un pendolo. I metodi d'uso, controazione e neutralizzazione del principio di polarità e di quello del ritmo formano una delle parti più importanti dell'alchimia mentale ermetica. 6. Il principio di causa ed effetto Ogni effetto ha la sua causa, ogni causa ha il suo effetto. Tutto avviene in conformità di una legge. Il caso è il nome dato a una legge che non si conosce. Pur se esistono diversi piani di causalità, niente sfugge alla legge. Cioè, tutto avviene secondo una legge. Non esiste il caso. Se ci sono diversi piani di causalità per i quali i più alti dominano gli infimi, pur tuttavia, nulla può sfuggire del tutto alla legge. Grazie alla conoscenza dell'ermetismo, ci si può innalzare al di sopra del normale piano di causa ed effetto, almeno entro certi limiti, tanto da diventare causanti. Ben sappiamo che le masse sono condizionate dall'ambiente, tanto da essere mosse secondo gli altrui desideri, come pedine di scacchi, vinte da mille cause esterne. Ma coloro che giungono al piano superiore riescono a dominare il proprio carattere, i propri stati d'animo, le proprie emozioni e quindi tutto ciò che li circonda, diventando causa anziché pedina. Essi possono dire di giocare la partita della vita e non di essere giocati. Essi usano il principio, non ne sono gli attrezzi. Seppure obbediscono ai piani di causalità a loro superiori, dominano sul loro. In queste parole è condensata la grande ricchezza della disciplina ermetica. Chi lo può ne approfitti. 7. Il principio del genere Il genere si manifesta in ogni cosa e su tutti i piani. Ogni cosa ha il suo principio maschile e femminile. Scopriamo ora che in ogni cosa è un genere. Ovunque troviamo il maschile o il femminile. Tutto questo vale oltre che per il piano fisico anche per quello mentale o spirituale. Quanto al piano fisico il principio ha la sua evidenza nel sesso mentre nei superiori pur assumendo forme più alte rimane invariato. Non c'è possibilità di creazione fisica mentale o spirituale senza l'applicazione di questo principio. Comprenderlo significa dare un raggio di luce ad argomenti fino ad ora oscuri alla maggior parte dell'umanità. Esso opera sempre rivolto alla creazione generazione e rigenerazione. Tutto cose e persone sono fondati su questo principio. Ogni elemento femminile ne contiene un maschile e viceversa. In questo grande principio è racchiusa la chiave di una grande parte dei misteri della vita. Bisogna a questo punto soffermare l'attenzione sull'enorme differenza esistente tra questa legge e le basse infamanti teorie o pratiche che munite di denominazioni assurde non sono altro che la profanazione del nostro grande principio. questi dubbi rifacimenti delle antiche forme del fallicismo vertono alla degenerazione dello spirito dell'anima del corpo e la filosofia ermetica ha sempre cercato di aprire gli occhi sulla fallacia di tali insegnamenti votati alla dissolutezza alla perversione e all'inversione dei principi di natura. qualora foste portati per questa via lasciate da parte la dottrina ermetica essa non può aiutarvi come per i puri ogni cosa è pura per i perversi ogni cosa è tale. Capitolo Terzo Trasmutazione Mentale La mente come i metalli e gli elementi può essere trasmutata da stato a stato da grado a grado da condizione a condizione da polo a polo da vibrazione a vibrazione la vera trasmutazione ermetica è un'arte mentale già abbiamo avuto modo di dire che gli ermetisti erano un tempo alchimisti psicologi e astrologi come dall'astrologia è venuta fuori l'attuale astronomia dall'alchimia deriva la chimica e dall'antica psicologia mistica la moderna questo però non deve far ritenere erroneamente che gli antichi non fossero a conoscenza di quel che le scuole moderne ritengono loro esclusiva conquista infatti osservando le incisioni fatte su antiche pietre egiziane si può notare come i nostri avi avessero già molte cognizioni astronomiche come testimonia il sistema di costruzione delle piramidi così essi conoscevano la chimica come ci risulta ad antiche scritture e gran parte delle loro teorie di fisica hanno avuto conferma dalla scienza moderna come pure gli studi sulla costituzione della materia e ciò non basta gli egiziani avevano una vasta esperienza nelle scienze psicologiche specie in alcuni rami oggi ignorati noti sotto il nome di scienza psichica cosa che benché lasci scettici gli psicologi moderni fa tuttavia ammettere loro che deve pur esserci qualcos'altro sta di fatto che gli antichi oltre alla conoscenza delle scienze su menzionate avevano nozione dell'astronomia trascendentale o astrologia della chimica trascendentale o alchimia e della psicologia trascendentale o psicologia mistica essi avevano oltre alla conoscenza esteriore che possiedono i moderni scienziati anche quella interiore tra i tanti segreti della loro scienza era quello a noi noto come trasmutazione mentale che sarà argomento di questa lezione è questo il termine usato un tempo per indicare l'antica arte della trasmutazione dei metalli vili in oro letteralmente trasmutare significa mutare una natura una sostanza o una forma in un'altra quindi per trasmutazione mentale si intende l'arte di cambiare stati forme condizioni mentali in altri da cui potremo anche chiamarla una forma di psicologia mistica pratica sebbene questa trasformazione sul piano mentale sia enormemente importante per i suoi effetti tanto da costituire uno dei più grandi rami dello scibile essa non è che l'inizio già sappiamo che il primo dei nostri sette principi è quello del mentalismo secondo il quale tutto è mente e che quindi l'universo esiste nella mente del tutto se questo principio è vero dobbiamo poterne verificare gli effetti la trasmutazione mentale deve quindi poter cambiare le condizioni dell'universo in funzione della materia della forza e della mente è certamente questo il motivo per cui la trasmutazione mentale fu considerata magia dagli antichi scrittori che peraltro ben pochi accenni hanno fatto alle sue proprietà pratiche per concludere se tutto è mentale quest'arte deve rendere il maestro in grado di controllare sia le condizioni materiali che quelle mentali purtroppo solo alcuni alchimisti mentali assai progrediti hanno la capacità di dominare situazioni fisiche di grande portata come il controllo degli elementi della natura il produrre o il far cessare terremoti tempeste o altri grandi fenomeni fisici l'esistenza di uomini siffatti non può però essere negata dagli occultisti quale che sia la loro scuola i migliori maestri infatti hanno avuto esperienze tali da giustificare queste credenze essi non danno pubblicità ai loro poteri ma onde raggiungere un sempre maggior sviluppo preferiscono l'isolamento quanto agli studiosi inferiori di grado ovvero iniziati e insegnanti essi sono in grado di operare liberamente sul piano mentale della trasmutazione per quel che riguarda i cosiddetti fenomeni psichici i poteri mentali e scienza mentale eccetera che altro non sono se non diversi nomi per lo stesso principio che agisce sulle stesse linee generali chi si dedica alla trasmutazione mentale opera in essa trasmutando stati e situazioni mentali in altri secondo formule più o meno esatte per cui i tanti trattamenti negazioni o affermazioni di scuole di scienze mentali si riducono a formule imperfette della scienza ermetica in verità la più gran parte dei moderni praticanti è assai più addietro nella conoscenza della filosofia ermetica degli antichi maestri non avendo essi la conoscenza di base della dottrina per chi conosce questi metodi è possibile cambiare non solo il proprio stato mentale ma anche l'altrui il che normalmente avviene a livello subcosciente ma a volte anche volontariamente con la comprensione di leggi e principi se non si ha la capacità di neutralizzare degli effetti che si tenta a far ricadere su di loro molti studiosi della scienza mentale moderna sanno ormai che con un desiderio intenso e molta concentrazione si può trasmutare qualsiasi condizione materiale dipendente da altre menti ma essendo il pubblico oggi informato di queste cose non riteniamo opportuno soffermarvisi oltre volendo solo mostrare i principi ermetici che sono la base di queste applicazioni pratiche buone o cattive che siano essendo grazie alla polarità possibile usarle in opposte direzioni passiamo ora a considerare il primo dei principi ermetici quello del mentalismo per il quale tutto è mente confidiamo nella più viva attenzione da parte dei lettori in quanto questo è il principio fondamentale di tutta la scienza ermetica capitolo quarto il tutto alla base e più in là dell'universo del tempo dello spazio e delle mutazioni si trova la verità fondamentale la realtà sostanziale alla base e oltre ogni impressione e manifestazione esterna c'è sempre una realtà sostanziale sempre questa è la legge eterna per sostanza intendiamo quello che è al di sotto di ogni manifestazione esterna la cosa in sé eccetera quindi con sostanziale si vuole indicare lo stato di ciò che è reale ovvero fisso stabile vero eccetera quando l'uomo prende in considerazione il suo universo riesce a vedere solo i cambiamenti nella materia nelle forze e negli stati mentali osserva che in realtà nulla è ma tutto cambia tutto diviene la legge del ritmo è sempre presente niente è inquiete ogni cosa nasce si sviluppa e muore nell'attimo in cui qualcosa perviene al culmine del suo splendore già comincia inesorabilmente a decadere non esiste una realtà una fissità uno stato permanente niente resta immutato tranne il cambiamento ogni cosa si evolve tutto si risolve in altro sono e saranno sempre azioni e reazioni flussi e riflussi morte nulla resta tranne il cambiamento ma l'uomo quale essere pensante comprende che tutte queste mutazioni non sono che apparenze esterne la manifestazione di una realtà sostanziale della potenza che è al di sotto delle cose in ogni tempo in ogni nazione i grandi pensatori riconoscono l'esistenza di questa grande realtà tutte le filosofie serie hanno per base tale pensiero pur avendolo chiamato in vari modi alcuni lo dicono deità altri energia infinita altri ancora materia tutti però sono d'accordo nel riconoscere l'esistenza si tratta di una realtà così evidente che non ha bisogno di commenti come già molti prima di noi abbiamo voluto chiamare questo grande potere quest'immensa forza sottostante col nome di tutto con cui si indica il più capiente dei termini usati dall'uomo perciò che trascende nomi e termini poiché accettiamo la dottrina dei più grandi pensatori ermetici di ogni tempo e quella delle anime che hanno raggiunto i piani di esistenza più elevati ci uniamo a loro nell'affermare che la natura profonda del tutto è inconoscibile così è e sarà perché a nessuno è dato di comprendere l'essere del tutto i veri ermetisti sanno che le teorie le ipotesi le speculazioni dei metafisici e dei teologi non sono che sforzi infantili delle deboli menti mortali per tentare di spiegare i segreti dell'infinito ma data la difficoltà e la natura del compito intrapreso tutti questi tentativi sono sempre destinati a fallire perché chi si dedica a questi studi si perde nel labirinto del pensiero e tutta la sua logica lo condurrà in un vicolo cieco come fosse al punto di partenza tanto da mostrargli che non è in grado di capire i misteri della vita così sono da considerare ancora più presuntuosi quelli che pretendono di ascrivere al tutto la loro personalità le proprie qualità i propri attributi tutte cose che riguarderebbero il tutto in quanto suscettibili di sentimenti sensazioni caratteristiche umane e anche delle più turpe sue qualità come il desiderio di potenza sugli altri di lode continue di venerazione e ogni altro aspetto infantile della nostra razza idee queste del tutto indegne dell'uomo e come tali da rigettare si rende ora necessaria la distinzione esistente tra filosofia religione e teologia noi diamo alla religione il carattere di rivelazione intuitiva dell'esistenza del tutto e delle sue relazioni con l'umana specie mentre la teologia altro non è se non quell'insieme di tentativi da parte dell'uomo di attribuire personificazione caratteristiche e qualità al tutto escludendo la sua vera natura mediante teorie riguardanti il suo essere i suoi desideri e i suoi disegni e risolvendo così la necessità di intermediari fra esso e gli individui per noi filosofia vuol dire ricerca del significato di cose conoscibili e alla nostra portata mentre al contrario la metafisica opera oltre i limiti del conoscibile con un piano di azione del tutto simile a quello teologico ne consegue che per noi sia la religione che la filosofia vanno intese come dottrina aventi il loro fondamento nella realtà al contrario teologia e metafisica non sono altro che vuote formule che affondano le loro radici nella sabbia dell'ignoranza ben povero appoggio per le deboli menti umane con ciò non vogliamo convincere i nostri lettori ad accettare queste dottrine le stiamo solo esponendo per mostrare il nostro punto di vista ma malgrado la vera natura del tutto sia inconoscibile pure vi sono alcune verità essenziali in rapporto stretto con esso che noi non possiamo ignorare esaminarle è parte precipua del nostro compito specie se si tiene conto che esse concordano perfettamente con quanto fu detto dai sapienti più illuminati dei più alti piani ve ne mostriamo ora alcune ciò che è la realtà sostanziale non può essere nominato ma i saggi lo chiamano il tutto nella sua essenza il tutto è inconoscibile la voce della ragione deve essere accolta nel migliore dei modi e trattata col dovuto rispetto in base alla nostra ragione possiamo notare quel che ora esporremo pur senza invadere l'inconoscibilità del tutto 1 poiché per sua natura nulla può esistere al di fuori del tutto esso deve essere ciò che realmente è 2 il tutto è infinito nulla può delimitare definire costringere limitare il tutto essendo questi eterno o infinito nel tempo poiché è sempre esistito nulla può averlo creato e noi sappiamo che niente può derivare evolversi dal nulla se non fosse mai stato fosse anche per un solo attimo neppure ora potrebbe essere quindi esso non potrebbe essere sempre esistito se da nulla può essere distrutto né per un istante potrebbe cessare d'essere poiché qualcosa non può divenire nulla mai e ancora non può esserci luogo al di fuori del tutto quindi deve essere infinito nello spazio e dovunque così deve essere ininterrotto nello spazio continuo senza separazione o rottura poiché niente esiste che possa interrompere la sua continuità né d'altra parte esisterebbe qualcosa capace di colmare su eventuali fessure e dato che non esiste nulla che possa costringerlo limitarlo condizionarlo restringerlo o interferire con lui si può dedurre che è potenzialmente infinito in se stesso e quindi assoluto nessuna potenza potrebbe assoggettarlo poiché nessun potere esiste al di fuori del suo 3 se è vero come è vero che nulla vi è che possa operare dei cambiamenti nulla in cui potrebbe cambiarsi o da cui essere cambiato il tutto deve essere immutabile nella sua essenza più profonda infatti non si può aumentarlo né diminuirlo oppure distruggerlo e in nessun modo si può farlo divenire più piccolo o più grande di quel che non sia esso è sempre stato e sempre rimarrà com'è immutato nel tempo e non è mai esistito un qualcosa che potesse alterarlo e ne vi sarà mai e tenendo presente che il tutto è infinito immutabile assoluto ed eterno tutto ciò che è al contrario instabile finito condizionato non può essere il tutto quindi dato che nulla esiste al di fuori del tutto ogni cosa finita è in realtà niente questo discorso non deve spaventare e ne stupire non è fatto per giungere attraverso la filosofia ermetica a un ideale cristiano o d'altra religione e anche se a prima vista può apparire assurdo c'è un certo nesso logico tra le cose sopradette senza dover ricorrere a dogmi se noi ci guardiamo intorno possiamo vedere ovunque la base fisica ad ogni forma la materia attenzione però a non confondere questa materia col tutto in quanto essa non può contenere vita o mente che sono infatti prerogative dell'universo quindi del tutto questo perché nulla può mostrarsi nell'effetto che già non sia nella causa è questo il motivo per cui anche la scienza moderna ci dimostra che in realtà la materia non esiste non esiste cioè un termine di quel genere ma piuttosto potremmo dire energia o forza interrotta cioè forza a grado di vibrazione ridotto dice un recente scrittore la materia si è volatilizzata nel mistero teoria d'altronde adottata ormai anche nella scienza materialistica che riconosce a sua base l'energia allora il tutto non è altri che pura energia o forza anche questo è errato almeno nel senso comune dell'interpretazione poiché energia e forza per i materialisti sono forze cieche meccaniche e prive di una qualsiasi guida mentale e noi sappiamo che la vita e la mente non possono essere il frutto di cieca energia ecco quindi spiegato perché il tutto non può essere solo energia pura altrimenti non esisterebbe vita o mente mentre noi siamo ben vivi e ci serviamo ottimamente della nostra mente per risolvere questo stesso problema stesso discorso poi per quelli che ritengono il tutto consistente in energia allora si potrebbe concludere che essendoci nell'universo di superiore alla materia o all'energia solo la vita e la mente in tutti i loro gradi il tutto si risolve in esse ciò è vero ma fino ad un certo punto se si intende per vita e mente quel che noi poveri mortali conosciamo intorno ad esse siamo fuori strada qualora invece si voglia considerare per mente quel qualcosa al di sopra di ciò che si dice comunemente come ad esempio la differenza esistente tra mente e forze meccaniche allora potremo veramente dire che il tutto è la mente vivente esattamente quella mente vivente infinita che gli illuminati chiamano col massimo della riverenza spirito capitolo capitolo quinto l'universo mentale l'universo è mentale esso risiede nella mente del tutto abbiamo detto che il tutto è spirito ma in realtà che è lo spirito è questa una domanda senza risposta perché identificandosi lo spirito nel tutto per sua natura indefinibile siamo in un circolo chiuso possiamo solo dire che lo spirito è il nome che l'uomo dà alla sua più alta concezione della mente vivente infinita esso vuol dire essenza reale ed è del tutto superiore alla vita e alla mente come noi le conosciamo poiché trascende la nostra comprensione noi usiamo questo termine all'unico scopo di poter parlare o pensare al tutto è questo l'unico motivo per il quale siamo autorizzati a pensarlo come mente vivente infinita pur riconoscendo di non poterlo comprendere appieno senza questa premessa è impossibile procedere nell'argomento ora passiamo a considerare la natura dell'universo come insieme e distinguendolo per parti già abbiamo osservato che nulla può esserci al di fuori del tutto né però l'universo può essere tutto in quanto esso sembra consistere in molteplici parti e in costante evolversi la prima conclusione che ci verrebbe fatto di fare è che se l'universo non è commensurabile al tutto sarà quindi il nulla ma con ciò non si può certo dire di aver risolto il problema ma solo di averlo eluso poiché noi abbiamo il senso dell'esistenza dell'universo e se non è il nulla né il tutto cos'è? naturalmente bisogna osservare che se l'universo esiste o almeno sembra esistere non può provenire dal tutto ed è quindi una sua creazione ma conservando il principio che nulla può nascere dal nulla cosa può avere creato il tutto? c'è tra i filosofi chi dice che il tutto ha creato l'universo da se stesso cioè facendolo derivare dalla sua essenza ma questa è una teoria in antitesi con il principio che ogni molecola dell'universo non sarebbe consapevole d'essere il tutto quindi esso non potrebbe perdere coscienza di sé né divenire una forza cieca o un essere vivente senza coscienza c'è infine chi nella consapevolezza dell'esistenza del tutto come entità e della realtà della natura umana è giunto alla conclusione che uomo e tutto siano la stessa cosa e quindi si ritengono specie di dei novelli causando il dileggio delle masse e la costernazione delle persone sensate in confronto la pretesa di un atomo di materia che dicesse io sono un uomo suonerebbe meno assurda ma torniamo al nostro problema cos'è questo universo se non si identifica col tutto non è propriamente una sua creazione né si è da lui separato cos'altro può essere cosa può dunque averlo generato esaminiamo il dilemma più attentamente cominciamo col tenere a mente l'antico assioma ermetico della corrispondenza quel che trovasi al di sopra è uguale a quel che al di sotto proviamo a guardare le funzioni dei più alti piani basandoci su quel che avviene nel nostro innanzitutto com'è che l'uomo crea sul proprio piano vediamo subito che egli riesce a creare formando qualcosa da materie esterne tutto ciò non potrebbe essere in quanto nessun materiale esiste esteriormente al tutto con cui si possa creare inoltre l'uomo riproduce la propria specie con un processo di generazione che si può definire come moltiplicazione di sé grazie al trasferimento di una propria sostanza a quel che viene da lui generato tutto questo però non può applicarsi al tutto poiché come sappiamo esso non può sottrarre o trasferire una sua parte né può moltiplicarla né tantomeno riprodurla assurdo in entrambi i casi nel primo gli si toglierebbe qualcosa nel secondo si addiverrebbe ad un'addizione ma non esiste forse un altro modo di creazione per l'uomo non ci è noto che egli può produrre mentalmente così facendo il suo spirito raggiunge la creazione mentale senza ricorrere alla riproduzione e senza usare materiali esterni per cui in base al principio di corrispondenza possiamo affermare che il tutto crea l'universo mentalmente mediante un processo analogo a quello usato dall'uomo per le immagini mentali è questo il punto in cui i postulati della ragione combaciano perfettamente coi dettami degli illuminati quali risultano dai loro insegnamenti scritti quindi gli insegnamenti dei saggi sono uguali a quelli di ermete non possiamo dunque razionalmente giungere ad una conclusione diversa da questa che il tutto non può creare che mentalmente cioè senza impiego di alcun materiale o mediante riproduzione il processo usato dal tutto nella creazione degli universi è in fondo simile a quello con cui mentalmente noi ci creiamo un nuovo mondo la differenza è che mentre il nostro è una creazione di una mente finita l'altro è di una mente infinita superiore e se sono quindi simili nella specie differiscono infinitamente per grado importantissimo importantissimo è tener presente che l'universo è tutto ciò che contiene altri non è se una creazione mentale del tutto poiché in verità tutto è mente nella sua mente infinita il tutto crea moltissimi universi che esistono per tempi diversi nell'ordine dei millenni ma per il tutto creazione sviluppo regresso e morte di un miliardo di universi non ha durata maggiore dell'aprirsi e chiudersi di un occhio la mente infinita del tutto è la fattrice degli universi come già abbiamo avuto occasione di osservare il principio del genere pur manifestandosi su tutti i piani di esistenza mentale spirituale materiale non va confuso col sesso che è soltanto una manifestazione materiale del genere per genere si deve quindi intendere relativo a generazione o a creazione perciò ovunque avvenga una creazione o generazione questo principio non può non manifestarsi ciò è applicabile anche alla creazione degli universi non si deve però concludere che noi insegniamo che c'è un creatore o dio maschio e femmina tale teoria non è che una deformazione degli antichi insegnamenti sull'argomento la verità è che il tutto in se stesso è al di sopra di ogni legge quindi di quella del tempo dello spazio e anche di quella del genere esso è legge da cui derivano tutte le altre e non può essere soggetta ad alcuna di esse bisogna dire invece che quando il tutto si manifesta sul piano della generazione o creazione opera secondo questo principio in quanto si muove su un piano d'essere più basso ne consegue quindi che esso manifesta il principio del genere nei suoi aspetti maschile e femminile il tutto avviene naturalmente sul piano mentale forse questa è una teoria che può sembrare strabiliante a chi ne sente parlare per la prima volta mentre in realtà essa viene comunemente accettata nei pensieri di ogni giorno non si parla forse giornalmente della paternità e della maturità di dio come pura della natura madre universale così dicendo si riconosce per valido il principio del genere nell'universo va peraltro notato che il principio del genere non implica una vera e propria dualità il tutto è uno solo pur se si manifesta sotto i due aspetti il principio maschile che il tutto manifesta rimane in un certo senso separato dall'effettiva creazione mentale dell'universo la sua volontà viene proiettata verso il principio femminino o natura e soltanto da questo ha inizio il vero lavoro di evoluzione dell'universo che dai più semplici centri di attività giunge all'uomo e poi ad entità sempre più alte sempre rispettando le leggi fisse improrogabili della natura volendoci attenere alla vecchia forma di pensiero si può dire che il principio maschile si realizza in dio padre quello femminile nella natura madre universale da cui tutte le cose furono generate è questa più che un'immagine metaforica si tratta dell'effettivo processo creativo dell'universo ciò non toglie che bisogna sempre tenere presente che il tutto non è che uno e che l'universo esiste come creazione nella sua mente infinita per avere un'idea più esatta sulla veridicità di questa legge basterà che applichiate il principio della corrispondenza a voi stessi alla vostra mente ognuno di noi sa molto bene che quella parte che chiamiamo io è in noi quasi separata e assiste in un certo senso alla creazione di immagini mentali dall'io possiamo distinguere il me cioè quella parte della mente in cui si compie la creazione l'io quindi agisce come supervisore esaminando i pensieri e le immagini del me se terremo a mente che come al di sopra così al di sotto potremo usare i fenomeni di un piano per spiegare i misteri dei piani superiori o inferiori quella specie di venerazione istintiva che abbiamo per il tutto viene generalmente chiamata religione così come la riverenza per la mente madre si manifesta in pieno quando osserviamo le meravigliose opere della natura è questo un sentimento che ha le sue radici nella parte più riposta del nostro intimo perché ci deriva proprio dalla mente madre dalla quale siamo attratti come il bimbo che si stringe al seno della mamma ma non bisogna lasciarsi ingannare nella supposizione che questo piccolo mondo in cui viviamo e che non è che un granello di polvere sperduto nello spazio sia l'immenso universo nella mente infinita del tutto risiedono miliardi di universi e anche di mondi più grandi del nostro nello stesso nostro minuscolo sistema solare vi sono piani di vita assai più alti del nostro ed esseri al cui confronto non siamo che deboli forme di vita terrestri esseri con poteri superiori a quelli che l'uomo ha sognato essere attributi degli dèi veramente inimmaginabili eppure anche questi esseri un tempo erano simili agli umani se non ad un livello anche più basso allo stesso modo un giorno saremo come e più in alto di loro questo dicono gli illuminati è il destino umano poiché la morte non ha nulla di reale è solo nascita nuova vita elevazione sempre più rapida piani vitali sempre più alti nell'immensità del tempo poiché l'universo è la nostra ultima dimora prima che il tempo abbia fine lo percorreremo interamente le nostre possibilità proiettate nel futuro sono immense dato che abitiamo nell'infinitamente del tutto che ci rende infiniti nel tempo e nello spazio quando poi il tutto finito il ciclo di eoni deciderà di riportare a sé tutte le sue creazioni raggiungeremo il massimo dell'elevazione saremo una cosa sola col tutto avremo in mano la verità coloro che più illuminati sono assai avanti nel sentiero questo ci dicono in attesa di ciò dobbiamo vivere sereni perché protetti dall'immensa potenza della mente madre e padre entro la mente madre padre i mortali sono al sicuro nell'universo nessuno è senza padre e senza madre capitolo sesto il divino paradosso i mezzi saggi che riconoscendo la parte di irreale che è nell'universo credono di poterne infrangere le leggi sono in realtà soltanto degli sciocchi che per la loro pazzia finiranno con lo spaccarsi la testa sulle rocce vinti dagli elementi i veri saggi invece che sanno qual è la natura dell'universo usano la legge contro le leggi ciò che è più elevato contro quel che è più in basso e riescono a tramutare l'indegno indegno con l'alchimia mentale è per tutto ciò che essi sono dei vincitori le conoscenze più alte non consistono in strani sogni assurde visioni o immagini fantastiche ma nel sapersi servire delle energie più alte contro le più basse sottraendosi alle sensazioni dolorose dei piani più bassi con opportune vibrazioni sui più alti la grande arma dei maestri è la trasmutazione non la vana negazione quando il tutto dà inizio alle sue creazioni assieme al principio di polarità si manifesta inequivocabilmente il paradosso dell'universo esser consapevoli di ciò significa oltrepassare la linea che separa i mezzi saggi dai saggi se per il tutto l'universo con le sue leggi fenomeni vita e potenza appare nello stato di sogno di meditazione per noi esseri finiti fa parte della realtà e ugual sorte hanno la vita l'azione e il pensiero e tutto ciò pur nella consapevolezza della sua natura immaginaria mentale ad ogni piano le sue leggi male sarebbe per l'universo se il tutto lo considerasse reale cesserebbe il continuo tendere verso l'alto il divino e l'universo diverrebbe un qualcosa di immobile statico privo di progresso chi si ostina a voler pensare all'universo come a qualcosa di irreale finisce per farlo divenire veramente tale cosicché prende a vivere come un sonnambolo girando sempre in tondo per ritrovarsi al punto di partenza finché svegliatosi si ritrova contuso e sanguinante per aver cozzato contro quelle leggi di natura che si è ostinato a ignorare rivolgete pure i vostri occhi alle stelle ma non scordate di guardare dove mettete i piedi potreste scivolare nel fango tenete a mente il divino paradosso per cui l'universo mentre non è è tuttavia ricordate anche i due poli della verità assoluto e relativo non lasciatevi convincere dalle mezze verità questa legge del paradosso ermetica non è altro che uno degli aspetti del principio di polarità in riferimento al quale molte pagine sono state scritte dagli ermetici nella trattazione dei problemi di vita ed essere i maestri infatti ricordano frequentemente ai loro discepoli di non lasciarsi tentare dall'errore di omettere in ogni problema l'altra parte e in particolar modo raccomandano molta attenzione coi problemi riguardanti l'assoluto e il relativo il punto debole di ogni filosofo che portano a pensare ad agire quasi si fosse privi del più elementare senso comune da parte nostra raccomandiamo a tutti gli interessati di scienze occulte la massima cautela per quel che concerne la comprensione del divino paradosso onde non restino imbrigliati nella rete delle mezze verità è al raggiungimento di questo scopo che verte particolarmente questa lezione per cui tenetene il debito conto chi si rende conto che l'universo non è che una creazione mentale del tutto per prima cosa pensa che esso e tutto ciò che contiene non è che un'illusione un'irrealtà qualcosa contro cui tutti i suoi istinti si ribellano ma questa come ogni altra grande verità deve essere guardata sotto la luce sia del punto di vista assoluto che di quello relativo sotto il primo si presenta dunque come illusorio innaturale e fantasmagorico rispetto al tutto in sé riconosciamo però questa validità anche al secondo in quanto parliamo del mondo come di quel complesso di cose che muta continuamente nasce e muore poiché l'idea di mobilità di finitezza di non sostanzialità è sempre unita a quella di una creazione anche qualora questa sia in antitesi con l'idea del tutto senza conciò pregiudicare le nostre convinzioni sulla natura di ambe due tutti sono d'accordo su questo il teologo il metafisico lo scienziato il filosofo e la stessa teoria è presente sotto ogni forma di pensiero filosofico o religioso come anche nei postulati delle scuole di metafisica e di teologia per cui sebbene il modo in cui il soggetto è mostrato ai lettori sia seguendo gli insegnamenti ermetici assai più strano e impressionante predicando la non sostanzialità dell'universo pure esso non differisce molto nella sua essenza da termini a voi molto più familiari per ogni corrente intellettuale filosofica quel che ha un inizio e un termine non può non sembrare irreale o immaginario data la sua finitezza quindi lo stesso ragionamento è applicabile anche all'universo per cui basandoci sulla visione assolutistica niente è reale tranne il tutto senza con ciò pregiudicare il modo o la terminologia con i quali ci si può accostare all'argomento da ciò che l'universo sia o meno di materia limitato nella sua durata o essenziale esso è sempre un qualcosa formato da tempo spazio e in incessante modificarsi prima di concepire un'idea su una natura mentale dell'universo è necessario tener conto di questo fatto valido anche per ogni altra concezione ricordiamoci però che esiste anche il rovescio della medaglia dato dal punto di vista relativo se la definizione della verità in assoluto è le cose come le conosce la mente di dio quella relativa sarà cose come sono viste e intese dall'uomo nelle sue più alte accezioni quindi l'universo è per il tutto irreale frutto di sogno o di meditazione mentre per le menti finite che fanno parte di questo stesso universo esso non può non essere in quanto visto da menti e poteri mortali qualcosa di più che reale pur mantenendo come valida la visione assolutistica bisogna anche ricordare che noi non siamo il tutto e che quindi non dobbiamo erroneamente ignorare o negare i fenomeni dell'universo come si presentano alle nostre menti umane ad esempio ben sappiamo qual è ai nostri sensi la sensazione di esistenza della materia e assai imbarazzante sarebbe affermare il contrario tutto questo anche se sappiamo che scientificamente non esiste quel qualcosa che chiamiamo con tanta sicurezza materia in realtà noi diamo questo nome ad un aggregato di atomi i quali a loro volta non sono che l'unione di ioni ed elettroni cioè di unità di energia che vibrano in costante movimento circolare malgrado ciò se noi diamo un calcio ad una pietra ne sentiamo la resistenza come se fosse una materia fissa questo perché il piede è come la materia costituito di elettroni e quindi sente l'urto della massa e lo trasmette ai nostri centri nervosi così che questa sensazione materiale raggiunga il nostro cervello d'altra parte è proprio grazie alla nostra mente che possiamo avere nozione del piede o della pietra lo stesso processo avviene al pittore o lo scultore quando tenta di riprodurre sulla tela o nel marmo quell'immagine ideale che a lui sembra reale analogamente avviene per i personaggi creati dalla mente dell'autore drammatico quando cerca di esprimerli in modo che possano essere sentiti anche dagli altri ma se questa sensazione di realtà è così forte nelle nostre menti finite immaginiamo come deve essere infinitamente più potente per quel che concerne le immagini mentali creati nella mente dell'infinito per noi mortali il nostro universo mentale è l'unica realtà di cui abbiamo nozione malgrado andiamo sempre più in alto innalzandoci da piano a piano conoscerlo attraverso l'esperienza significherebbe essere il tutto naturalmente più andiamo avanti sulla scala più ci avviciniamo alla mente infinita mentre diviene sempre più evidente la natura illusoria delle cose nonostante ciò ne rimarrà una pur minima traccia finché il tutto non sarà giunto ad incorporarci evitiamo di soffermarci troppo sull'evidenza dell'illusione ma riconosciamo invece per vera la natura dell'universo e le sue leggi mentali che dobbiamo adoperare per ricavare gli effetti migliori nella nostra ascensione onde passare più rapidamente ai piani supremi dell'essere e non perché questo ha una natura mentale vengono meno le leggi dell'universo poiché tutto tranne il tutto è soggetto ad esse quel che si trova nella mente infinita del tutto è reale proporzionalmente alla realtà propria della sua natura dato ciò non bisogna mai essere insicuri o avere paura poiché il tutto ci contiene nella sua mente infinita e da nessuna cosa abbiamo da temere perché nulla ci può essere dannoso niente e nessuno tranne il tutto ci può toccare questa deve come abbiamo detto essere la nostra sicurezza sempre che si sia compreso quanto sopraindicato questa deve come abbiamo detto essere la nostra sicurezza sempre che si sia compreso quanto sopraindicato ovvero la capacità di lasciarsi cullare dall'oceano della mente infinita di addormentarsi con ogni conforto nella culla del profondo ricordiamo che nel tutto viviamo agiamo ed abbiamo la nostra essenza non dobbiamo fare l'errore di considerare la materia meno materia solo perché sappiamo che essa è costituita di aggregati di elettroni e di energia in movimento rotatorio che vibrano incessantemente nelle formazioni atomiche così gli atomi nella loro vibrazione danno luogo alle molecole che a loro volta formano strati di materie più grandi ma anche se ci rendiamo conto grazie ai dettami ermetici che le unità di elettroni costituenti le forze non sono altro che una manifestazione mentale del tutto la materia continua ad avere per noi le antiche caratteristiche ma come fa gran parte dei maestri di ermetismo pur riconoscendo sul loro piano i fenomeni materiali vi riesce a controllare la materia con l'applicazione di energie di specie più elevata negare l'esistenza della materia nell'aspetto relativo sarebbe pura follia si può non riconoscere il suo dominio su di noi ed è giusto che sia così ma non si può ignorarlo nel suo aspetto relativo almeno finché sostiamo sul suo piano allo stesso modo il sapere che le leggi di natura sono semplicissime creazioni mentali non toglie nulla alla loro costanza o alla loro efficienza il loro effetto si manifesta su diversi piani noi impariamo a servirci delle leggi più basse applicando quelle più alte ne abbiamo altro mezzo per ottenere lo stesso effetto però non possiamo sfuggire definitivamente alla legge o superarla completamente solo il tutto può farlo perché il tutto è la legge suprema da cui derivano le altre i maestri di grado superiore hanno tutti quei poteri che noi normalmente riteniamo essere attributi esclusivi degli dèi come ci sono nella scala di valori potenziali della gerarchia della vita esseri la cui potenza è superiore a quella dei più grandi maestri fra gli uomini il cui potere è inconcepibile ai mortali eppure anche il più grande fra di essi deve sottostare alla legge ed essere un nulla di fronte al tutto se quindi anche questi esseri supremi con poteri superiori a quelli immaginati dagli uomini per i loro dei devono sottostare alla grande legge consideriamo un attimo quanto sia presuntuoso l'uomo quando osa considerare la natura con le sue leggi come irreale essendo il solo in grado di dire che le leggi sono di natura mentale e quindi solo delle creazioni del tutto ma queste leggi che secondo i voleri del tutto sono leggi che governano non possono essere trascurate e né sfidate finché esisterà l'universo esse dureranno poiché è grazie ad esse che l'universo esiste ed ha anche un riscontro un'aderenza in ogni sua parte il principio ermetico del mentalismo non muta la vita l'evoluzione le leggi scientifiche dell'universo pur spiegandone però la sua vera natura la scienza stessa prende molto dagli insegnamenti ermetici da essi si può solo dedurre che la natura dell'universo è mentale mentre la scienza d'oggi ci dice che essa è materiale o meglio energia l'ermetismo può benissimo affiancarsi a spencer nel dire che c'è un'energia eterna ed infinita da cui derivano tutte le cose in effetti gli ermetici riconoscono in spencer e nella sua filosofia l'espressione più alta e completa che l'umanità abbia mai posseduto delle leggi e dei processi naturali anzi ritengono che il grande filosofo non sia altri che la reincarnazione di un filosofo antico vissuto in Egitto migliaia di anni or sono e che si è poi reincarnato nel filosofo greco eraclito vissuto intorno al 500 avanti cristo il suo postulato dell'energia eterna ed infinita viene da esso visto sullo stesso filo dei dettami ermetici cui aggiungono la loro dottrina particolare per cui l'energia nominata da spencer è l'energia della mente del tutto servendosi della filosofia ermetica chi si interessa di spencer potrà afferrare molte delle sue più care concezioni filosofiche che rispecchiano inequivocabilmente risultati della profondità della sua preparazione resa possibile dalle sue precedenti incarnazioni infatti le sue teorie sull'evoluzione e il ritmo sono quasi in completo accordo con gli insegnamenti ermetici sullo stesso principio per cui allo studioso ermetico non è chiesto di negare alcuna delle sue visioni scientifiche sull'universo e la sua natura gli è solo chiesto di ricordare il principio fondamentale tutto è mente l'universo è mentale i rimanenti sei principi combaceranno perfettamente con le sue cognizioni scientifiche ed anzi serviranno a rendere più chiari alcuni concetti oscuri tutto questo non ci deve rendere perplessi basterà notare che la filosofia greca su cui ha le sue basi ogni teoria scientifica moderna molto derivò dall'antica filosofia ermetica l'unico grande punto di contrasto tra la scienza odierna e il pensiero ermetico è l'accettazione del primo principio per il resto la scienza avanza gradatamente verso i postulati ermetici nel suo procedere attraverso tentativi dall'oscurità in cui si trova alla ricerca della verità tutta questa lezione verte ad imprimere nella mente del lettore il concetto che l'universo le sue leggi ed i suoi fenomeni sono e debbono essere per l'uomo tanto reali sotto ogni riguardo quanto lo sono secondo il materialismo i fautori dell'energitismo pur lasciando adito a qualsiasi ipotesi non bisogna dimenticare che l'universo visto esternamente è mutabile soggetto a flussi continui e del tutto transitorio vale a dire non sostanziale ed irreale però col tener conto dell'altra faccia della realtà e conservando le stesse ipotesi siamo obbligati a vivere ed agire come se quel che sappiamo essere transitorio fosse invece reale e sostanziale ma con una differenza nelle antiche credenze il potere mentale era del tutto ignorato come forza naturale ora grazie al mentalismo viene considerato la più grande forza naturale quest'unica differenza per quelli che ne comprendono la portata le leggi che ne conseguono e la sua applicazione pratica comporta tutto un ridimensionamento della vita stessa così quasi tutti gli studiosi riescono a comprendere i vantaggi del mentalismo ed imparano a conoscere e a rendersi padroni delle leggi che ne conseguono ma bisogna guardarsi dalla tentazione che come ammonisce il Chibalion opprime il mezzo saggio il quale quasi ipnotizzato dall'apparente evanescenza delle cose si muove come un sonnambolo in un mondo di sogni inconsapevole ed ignaro della vita vissuta e alla fine costretto dagli elementi ad infrangersi contro le rocce a causa della sua follia giusto sarebbe invece seguire l'esempio dei saggi che come dice il Chibalion si servono della legge contro le leggi di ciò che è più in alto contro ciò che è più in basso e grazie all'alchimia tramutano quel che è indegno indegno e desiderabile e giungono così al vero trionfo evitiamo quindi la mezza saggezza che equivale a follia che non fa rendere conto che la più alta saggezza non consiste di sogni abnormi visioni fantastiche strani sistemi di vita bensì di impiego delle più alte energie contro le infime sottraendosi così ai dolori dei piani più bassi con vibrazioni su quelli più alti non dimentichiamo che la trasmutazione è l'arma del maestro non sciocca negazione quello che abbiamo detto fino ad adesso è preso dal Chibalion quindi deve essere ben ponderato quello in cui viviamo non è un mondo di sogni bensì un universo che pur essendo relativo è per noi e la nostra vita una realtà nostro dovere nell'universo non è negarne l'esistenza ma vivere nell'osservanza e nell'uso delle sue leggi per salire ai piani più elevati nel vivere adoperandosi quanto è più possibile senza tralasciare le circostanze che si presentano ogni giorno per assurgere alle mete più alte a noi uomini di questo piano non è dato di conoscere il vero significato della vita anche se c'è qualche eccezione ma le voci di maggiore autorità come pure il nostro intuito almeno fino ad un certo punto in conformità ai nostri migliori istinti e all'armonicità dell'universo ci insegnano a vivere secondo questi dettami malgrado i tanti ostacoli che sempre più numerosi si frappongono sul nostro cammino tutti quanti siamo sul sentiero e tendiamo inesorabilmente verso l'alto anche se a volte abbiamo bisogno di fermarci a riposare ricordare sempre il messaggio del Chibalion Capitolo settimo In tutto il tutto Allo stesso modo che tutto è nel tutto il tutto è in tutto chi ben afferra questa verità ha in sé un grande sapere ogni popolo della terra si è spesso sentito ripetere che la sua Deità che prende diverse denominazioni seguendo i vari usi era il tutto nel tutto pochi hanno saputo leggere l'intima verità nascosta dietro queste semplici parole pronunciate candidamente questa comune espressione è infatti un rifacimento dell'antico idioma ermetico come dice il Chibalion colui che ben afferra questa verità possiede un grande sapere poiché è così cerchiamo questa verità il cui intendimento è di vitale importanza in questo concetto ermetico è racchiusa una delle più grandi verità filosofiche scientifiche e religiose fino ad ora abbiamo esposto ciò che dice l'ermetismo sulla natura mentale dell'universo insegnamento che è nella mente infinita del tutto notiamo ora che oltre al detto tutto è nel tutto esiste l'altro apparentemente opposto il tutto è in tutto questa contraddizione è però conciliabile grazie alla legge del paradosso inoltre è l'esatto postulato ermetico riguardante le relazioni che intercorrono tra il tutto e il suo universo mentale passiamo ora ad esaminare l'altro aspetto del soggetto secondo gli ermetici il tutto è immanente al suo universo quindi è presente in ogni particella anche nella più minuscola combinazione dell'universo stesso questa regola viene generalmente unita dai maestri al principio di corrispondenza diciamo che il maestro istruisce il discepolo intendendo che questi raggiunge la sua formazione con un'immagine mentale di qualcosa sia essa una persona o un'idea un quid in poche parole proprio come il drammaturgo cresce in sé un'idea dei suoi personaggi o il pittore che crea dentro di sé quella figura ideale che poi cercherà di esternare con la sua arte comunque sia lo studioso noterà che se l'immagine possiede esistenza e vitalità solo nella sua mente egli quale autore studioso pittore eccetera è tuttavia per un certo verso immanente ad essa ovvero vita spirito sensazione di reale dell'immagine mentale sono frutto della mente immanente del pensatore cercate di comprendere a fondo questa teoria poiché è molto importante per esempio noi potremmo dire che Otello Iago Amleto Riccardo III quando vennero la luce come personaggi esistevano solo nella mente dell'autore Shakespeare il quale a sua volta esisteva in ognuno di essi in quanto dava loro la vita spirito e capacità di agire così lo spirito di personaggi quale Micober Oliver Twist e Uriah è di Dickens oppure ognuno di loro ha un proprio spirito del tutto indipendente da chi li ha creati e la Venere dei Medici la Madonna della Cappella Sistina l'Apollo di Belvedere hanno forse loro una personalità individuale o non sono piuttosto la rappresentazione del potere mentale dei loro creatori secondo la legge del paradosso entrambe le ipotesi sono vere se osservate dal relativo punto di vista pur se Micober è tanto se stesso quanto Dickens non si può dire che Dickens si identifichi con lui ma si può senz'altro dire che Micober è Dickens egli potrebbe infatti dire lo spirito del mio creatore è in me pur tuttavia io non sono lui quant'è diverso tutto questo dalla sciocca saccenza di certi mezzi saggi che proclamano ai quattroventi io sono Dio proviamo ad immaginare il nostro Micober o il meschino Uriah che urlano io sono Dickens o anche qualche stolto personaggio di una commedia di Shakespeare che annunzia a gran voce io sono Shakespeare seppure il tutto è nel verme della terra siamo ben lungi dall'affermare che un verme sia il tutto nonostante ciò la splendida realtà è che malgrado il verme esista comprenderà immediatamente che quanto finora detto è per forza di cosa imperfetto ed inadeguato rappresentando una creazione mentale di menti finite mentre l'universo è la splendida creazione di una mente infinita le due cose sono diametralmente opposte tuttavia è questa soltanto una questione di grado ovunque opera lo stesso principio la corrispondenza è sempre presente come al di sopra così è al di sotto come è al di sotto così è al di sopra così l'uomo salirà la scala spirituale della vita proporzionalmente al riconoscimento dello spirito immanente nel suo essere è questo lo sviluppo spirituale fatto di constatazione e realizzazione dello spirito in noi la verità della vera religione è racchiusa in questa definizione dello sviluppo spirituale molti sono i piani d'essere i sottopiani di vita i gradi di esistenza nell'universo ma tutti dipendono dal progredire degli esseri sulla scala di cui il punto più basso è dato dalla materia più rozza mentre tra lo spirito del tutto e l'essere più elevato esiste solo una debolissima divisione sulla scala della vita ogni cosa è in movimento tutti sono su quel sentiero chiamato il tutto ogni progresso diviene ritorno quali che siano le apparenze tutto si innalza e procede in avanti questo è il messaggio lasciato dagli illuminati seguendo gli insegnamenti armetici sulla creazione mentale dell'universo possiamo sapere che all'inizio del ciclo creativo il tutto nella sua parte di essere emette la sua volontà verso il suo aspetto di divenire iniziando così il processo di creazione il processo come ci viene insegnato è determinato dall'abbassarsi della vibrazione fino al suo più basso grado dove si manifesta la sua più rozza forma di materia è questo lo stato di involuzione cioè quello in cui il tutto si avvolge nella sua creazione detto processo secondo gli ermetisti sembra corrispondere al processo mentale di un artista inventore o scrittore che si immerge talmente tanto nella sua creazione mentale da dimenticarsi quasi completamente della sua esistenza e per questo periodo si può dire che egli viva nella sua creazione qualora invece di involuto volessimo adoperare la parola avvolto potremmo ottenere un'idea più chiara di quello che intendiamo tale stadio involontario di creazione viene a volte denominato distribuzione di energia divina allo stesso modo in cui per lo stadio evolutivo si usa il termine attingere l'estremità del processo creativo è senza dubbio la più distante dal tutto mentre si usa considerare principio dello stadio evolutivo l'inizio dell'oscillazione retrocedente del pendolo del ritmo nozione questa convalidata da ogni ermetista così ci viene detto che nel processo di distribuzione le vibrazioni si fanno sempre più rarefatte finché cessa lo stimolo ed inizia il moto inverso il tutto però con una differenza nella distribuzione le forze creatrici si manifestano come un insieme compatto mentre partendo dallo stadio evolutivo si inizia la legge di individuazione ovvero la tendenza a distribuirsi in diverse unità di forza così quel che si è andato separando dal tutto come energia non individuata torna alla fonte come insieme di unità di vita assai sviluppate le quali si sono innalzate lungo la scala attraverso l'evoluzione fisica mentale e spirituale il processo di creazione mentale dell'universo nella mente del tutto è descritto dagli antichi ermetisti come meditazione come pure fanno grande uso del termine contemplazione tale idea può essere chiarita maggiormente con l'espressione di divina attenzione intendendosi per attenzione secondo la sua origine latina parole indicante il porgersi mediante distensione quindi un protendersi dell'energia mentale grazie agli insegnamenti ermetici sul processo evolutivo si può derivare che il tutto una volta stabiliti fondamenti e i limiti materiali dell'universo e dato ad esso esistenza con un ordine mentale tralascia poco a poco la sua meditazione dando così inizio al processo evolutivo sui piani materiale mentale e spirituale ha luogo così un moto verso l'alto mentre volge nella direzione dello spirito così la materia si rende meno rozza le unità si elevano verso l'essere si formano i primi agglomerati inizia la vita che si manifesta in forme sempre più alte la mente si evidenzia maggiormente il ritmo vibratorio diventa sempre più alto per riassumere il processo evolutivo inizia e procede in ogni sua fase secondo leggi ben precise stabilite dal processo di attingimento di energia mentale per raggiungere ciò sono necessari millenni del tempo umano ognuno d'essi consistendo in innumerevoli milioni di anni ciò nonostante da parte di illuminati ci viene detto che la creazione di un universo nella sua interezza cioè l'involuzione non è altro per il tutto che l'aprirsi e chiudersi di un occhio terminati molti cicli di secoli il tutto distoglie la sua attenzione dall'universo dato che la sua grande opera è terminata ed ogni cosa si ritiene nel tutto da cui è emersa malgrado ciò ed è questo il grande mistero lo spirito di ogni anima non si distrugge ma si protenda all'infinito questo immedesimarsi e distogliersi dalla meditazione da parte del tutto rappresenta naturalmente soltanto un tentativo dei maestri di descrizione del processo infinito come un esempio finito ciò nonostante tutto è al di sotto come al di sopra la differenza è solo di grado e come il tutto si ritrae dalla sua meditazione sull'universo così l'uomo attraverso il tempo cessa di manifestarsi su un piano materiale e si ritrae sempre maggiormente nei meandri dello spirito dell'ego divino abbiamo ancora qualcosa da dire anche se ciò equivale ad un'invasione del campo metafisico ma è nostro unico proposito mostrare l'inutilità di tale speculazione ci riferiamo al problema che si pone inevitabilmente ad ogni pensatore che si dedichi alla ricerca della verità ecco il problema perché il tutto crea degli universi molte sono le forme in cui può essere posto ma possono essere tutte ricondotte a quella sopraindicata di risposta valida ancora non ce n'è nessuna c'è chi ha immaginato che il tutto avesse creando qualche guadagno ma ciò è assurdo perché il tutto possiede già ogni cosa altri hanno detto che il tutto potrebbe cercare qualcosa degno del suo amore altri che lo facesse per divertimento o perché stanco della solitudine altri ancora dicono che per dar prova del suo potere ma si tratta sempre di spiegazioni futili di menti infantili c'è chi tenta di spiegare l'arcano col dire che il tutto fosse forse costretto a creare per uno stimolo della propria natura questa potrebbe essere una spiegazione attendibile ma non regge per l'idea che il tutto possa essere obbligato a fare qualcosa se la sua natura più intima o il suo istinto creativo lo costringessero a fare qualcosa l'attributo di assoluto passerebbe ad essi in luogo del tutto il che non è possibile comunque sia il tutto crea e si manifesta come se provasse una sorta di soddisfazione nel far ciò né è facile sottrarsi alla conclusione che possa esistere ad un grado infinito quel che a nostro livello corrisponderebbe ad un istinto creativo ugualmente infinito esso non agirebbe se non volendolo non potrebbe voler agire se non fosse suo desiderio far ciò né potrebbe desiderare di agire se non ne ottenesse una soddisfazione tutte queste cose facenti parte di una natura interna potrebbero essere attribuite al tutto secondo la legge di corrispondenza noi però preferiamo immaginare il tutto come scevro da qualsiasi imposizione esterna o interna ecco quindi la difficoltà che è alla base del problema più precisamente è difficile affermare che possa esistere una ragione che determini il tutto ad agire dato che per ogni ragione deve esistere una causa e il tutto è al di sopra di qualsiasi causa o effetto tranne quando non voglia diventare per una volontà causa è quello il momento in cui il principio si mette in moto vale la stessa regola che si ha per l'inconoscibilità del tutto come affermiamo che il tutto è semplicemente così dobbiamo dire che agisce perché agisce quindi per concludere il tutto è tutta ragione legge azione in se stesso o anche il tutto è la sua propria ragione legge e azione oppure che il tutto è tutt'uno con queste tre cose trattandosi di diversi nomi per la stessa cosa secondo gli illuminati la risposta era chiusa nel più intimo se del tutto assieme al segreto dell'essere da ciò si può dedurre che il principio di corrispondenza conserva la sua validità solo per l'aspetto del divenire del tutto quando si giunge a quello dell'essere tutte le leggi vengono assorbite dalla legge ed i principi si perdono nell'unico principio ogni metafisica al riguardo è inutile perché il tutto il principio e l'essere sono identici formano un tutt'uno indistinto noi ne parliamo solo per mettere l'accento sul problema o sull'inadeguatezza delle risposte che ordinariamente vengono date da teologi e metafisici interessante è notare che se alcuni tra i vecchi e i nuovi ermetici hanno tentato di applicare il principio di corrispondenza ermete e il grande invece richiesto sull'argomento dei suoi discepoli pare abbia risposto serrando le labbra senza proferire verbo il che indica che non c'è risposta forse però egli potrebbe aver voluto indicare la sioma della sua filosofia le labbra della sapienza sono chiuse tranne che per chi le comprende ritenendo che anche i suoi migliori discepoli non fossero pronti per la grande verità ad ogni modo anche se ermete era conoscenza del segreto non volle svelarlo e per il mondo le sue labbra rimasero chiuse quindi se ermete si astenne dal parlare quale altro mortale può ardire insegnare ma quale che sia la risposta è sempre valido il postulato che mentre tutto è nel tutto il tutto è in tutto a questa regola non c'è eccezione capitolo ottavo i piani di corrispondenza com'è al di sopra così è al di sotto com'è al di sotto così è al di sopra è questo il secondo principio ermetico che ci mostra l'armonia l'accordo e la corrispondenza che esistono tra i diversi piani di vita ed essere ciò è vero in quanto tutto quel che c'è nell'universo deriva dalla stessa sorgente ed è soggetto agli stessi principi ed ha le stesse caratteristiche applicabili ad ognuna sua unità dato che ognuna di esse si manifesta sul proprio piano per maggior semplicità di studio di pensiero si suole dividere l'universo in tre categorie di fenomeni che vanno sotto il nome di tre grandi piani ovvero 1 il grande piano fisico 2 il grande piano mentale 3 il grande piano spirituale naturalmente queste divisioni sono del tutto arbitrarie dato che non rappresentano che i diversi valori sulla scala della vita di cui il più basso è la materia indifferenziata il più alto lo spirito tra i due piani esistono poi diverse sfumature cosicché una divisione netta tra i più bassi fenomeni del piano mentale e i più alti di quello fisico o viceversa non può essere fatta quindi potremmo considerare i tre grandi piani come tre gruppi di gradi di manifestazione vitale non possiamo però soffermarci oltre in codesti approfondimenti e preferiamo passare a descriverli più generalmente per prima cosa rispondiamo alla prima domanda che sale alle labbra del profano il significato della parola piano questo termine assai usato è stato oggetto di spiegazioni errate da parte di varie scuole occultiste per cui cercheremo di rimediare il problema è il seguente il piano è un luogo a due dimensioni o soltanto una condizione o uno stato esso non è certamente un luogo né una dimensione dello spazio purtuttavia è molto di più di uno stato o di una condizione possiamo dirlo uno stato o una condizione per quel che in esso c'è di grado di dimensione su di una scala graduata può sembrare questo un paradosso ma non lo è esaminiamo il problema più da vicino noi sappiamo che una dimensione è una misura in linea retta tre sono le normali dimensioni dello spazio lunghezza larghezza e altezza o anche larghezza altezza spessore esiste però un'altra dimensione di cose create o di misure in linea retta nota agli occultisti e anche agli scienziati anche se quest'ultimi non riconoscono ad essa il nome di dimensione è la tanto discussa quarta dimensione che è il modello usato per la misurazione dei gradi o piani essa può essere anche denominata come la dimensione della vibrazione è un fatto ben noto agli ermetisti e anche alla scienza moderna che tutto vibra ogni cosa è in movimento e nulla è in riposo regola incorporata nel terzo principio ermetico dunque ogni cosa vibra dalla più bassa alla più alta manifestazione il che avviene non solo a vari gradi di movimento ma anche in diverse direzioni e maniere nella gamma di vibrazioni i gradi sono l'unità di misura sulla scala delle vibrazioni stesse cioè i gradi della quarta dimensione essi rappresentano quel che gli occultisti chiamano piani tanto più alto è il grado nella gamma di vibrazioni tanto più alto è il piano e la manifestazione della vita che esso occupa da ciò deriva il fatto che il piano pur non essendo né un luogo né una condizione possiede qualità comuni ad entrambi quanto all'argomento in questione ci dilungheremo maggiormente nelle prossime lezioni in cui considereremo appunto il principio della vibrazione come certamente ricorderete i tre grandi piani non sono delle divisioni reali dei fenomeni dell'universo bensì una suddivisione fatta dagli ermetisti al solo scopo di semplificare al massimo lo studio delle varie forme e dei diversi gradi di attività e vita dell'universo la differenza tra l'atomo di materia l'unità di forza la mente umana e l'essenza degli angeli è soltanto di grado e di gamma di vibrazioni essendo tutti fondamentalmente identici ogni cosa essendo da lui creata ha la sua ragione di esistere solo nella mente infinita del tutto ognuno dei tre grandi piani è suddiviso dagli ermetisti in sette piani minori i quali a loro volta sono divisi in sette sottopiani naturalmente anche queste altre divisioni sono arbitrarie non essendoci tra alcuna di esse dei limiti precisi ed essendo il loro unico scopo di facilitare il pensiero e lo studio degli stessi tutto quello che ha a che fare con la fisica o le cose materiali come forze e manifestazioni nei fenomeni universali è compreso nel grande piano fisico e nei suoi sette piani minori in esso sono racchiuse tutte le forme di quel che noi consideriamo materia ed ogni specie di energia o forza quel che però va ricordato è che la materia è vista dalla filosofia ermetica non come cosa in sé e quindi con esistenza a parte anche nella mente del tutto bensì come forma di energia anche se di un certo tipo di vibrazioni a bassa gamma quindi la materia è considerata energia ed ha il suo campo di azione in tre dei sette piani minori del grande piano fisico esaminiamoli più da vicino 1 il piano della materia A 2 il piano della materia B 3 il piano della materia C 4 il piano della sostanza eterea 5 il piano dell'energia A 6 il piano dell'energia B 7 il piano della sostanza C nel piano della materia A sono comprese le forme di materie di solidi liquidi e gas così come li troviamo descritti nei libri di fisica nel piano della materia B si trovano quelle forme più alte di materia che attualmente sono oggetto di studio presso i moderni scienziati quali fenomeni della materia radiante nelle sue fasi di radium eccetera il piano della materia C poi è formato dal cosiddetto etere sostanza assai tenue e di rara elasticità di cui è permeato tutto l'universo e che agisce come medium nella trasformazione di onde di energia come luce il calore e l'elettricità è questa la sostanza che agisce da tra d'union tra la materia e l'energia partecipando della natura di ognuno noi sappiamo però in base alle conoscenze ermetiche che avendo il piano sette suddivisioni ci sono sette etri e non uno proprio sopra il piano della sostanza eterea inizia quindi il piano dell'energia A che comprende tutte le forme ordinarie di energia così come sono note alla scienza calore luce magnetismo elettricità attrazione comprendendo anche la gravitazione la coesione e ogni affinità chimica eccetera e molte delle forme di energia che la scienza già conosce ma che ancora non ha classificato nel piano di energia B sono sette i sottopiani di forme assai elevate di energia ancora non note alla scienza ma che passano sotto il nome di forze più sottili della natura operanti in alcune forme di fenomeni mentali infine nel piano di energia C si trovano sette piani di energia della suprema organizzazione tali da non poter essere esaminati dalla mente umana in sede ordinaria di sviluppo sebbene possiedano molte caratteristiche della vita esso è di competenza degli esseri del piano spirituale ed essendo questa forma di energia trascendente l'uomo si può considerarla come una sorta di potere divino e conseguentemente gli esseri che la usano sono visti come dei anche al confronto dei più alti tipi umani a noi noti quanto al grande piano mentale esso comprende tutte le forme di cose viventi che osserviamo nella vita ordinaria ed anche altre note solo agli occultisti anche questa classificazione è arbitraria e non del tutto soddisfacente a meno che non la si accompagni con accurate spiegazioni peraltro non possibili in questa sede 1 il piano della mente minerale 2 il piano della mente elementale A 3 il piano della mente vegetale 4 il piano della mente elementale B 5 il piano della mente animale 6 il piano della mente elementale C e il settimo il piano della mente umana il primo comprende gli stati delle unità o entità come pure dei gruppi e delle combinazioni che possono formare esse rendono possibili quelle forme che ci sono note come minerali sostanze chimiche eccetera badiamo bene a non confondere queste entità con le molecole gli atomi e i corpuscoli che non sono altro che il corpo la forma materiale di detta entità proprio come il corpo dell'uomo lo racchiude ma non è lui stesso si potrebbe in un certo senso chiamarle anime pur essendo esseri viventi di un basso grado di sviluppo vita e mente solo qualcosa di più delle più alte energie viventi del piano fisico normalmente l'uomo mente media non riconosce al mondo minerale mente anima o vita mentre gli ermetisti ed ora in parte la scienza moderna ne hanno la piena convinzione quindi molecole atomi corpuscoli hanno i loro amori e i loro odi attrazioni e ripugnanze o affinità proprio come noi non solo alcuni tra i più audaci scienziati attuali ritengono fondata l'opinione che desideri volontà emozioni sentimenti degli atomi differiscano dagli umani solo di grado purtroppo non abbiamo abbastanza spazio qui per esaminare meglio il quesito ci limitiamo a dire che ogni occultista conosce questo fenomeno e che alcuni di essi fanno riferimento ad opere scientifiche per averne una più valida conferma naturalmente anche in questo piano sono presenti le solite sette suddivisioni segue nell'ordine il piano della mente elementale A che rappresenta lo stato e il grado di sviluppo mentale di entità sconosciuta all'uomo comune ma nota agli occultisti pur essendo invisibili all'uomo dotato dei cinque sensi ordinari assolvono puntualmente il loro compito nell'universo il loro grado di intelligenza è qualcosa che sta tra le entità minerali e chimiche e quelle del regno vegetale quest'ultime fanno parte del piano che con le sue sette divisioni ben comprende ogni loro fenomeno cosa dal resto riconosciuta anche dalle persone di media intelligenza certamente grazie anche alle assai diffuse opere scientifiche sulla mente e vita delle piante dotate di attributi proprio come gli animali l'uomo e il super uomo il piano della mente elementale B rappresenta invece gli stati e le condizioni di una forma più elevata di entità invisibili con funzioni generali nell'universo la cui vita e mente essendo situata tra il piano della mente vegetale e quello animale partecipa della natura di entrambi nel piano della mente animale sono rappresentate le comunissime entità delle forme animali di vita non ci soffermeremo oltre su questo piano certi che vi è ben noto l'ultimo piano elementale è costituito da quelle entità invisibili come ogni elementale che fino ad un certo grado e dietro precise condizioni partecipano della natura della vita animale e di quella umana infine abbiamo il piano della mente umana che comprende tutte le manifestazioni di ogni grado specie o funzione comuni all'uomo in merito vogliamo attrarre la vostra attenzione sul fatto che l'attuale uomo comune non occupa che la quarta delle sette suddivisioni del piano e che solo i più dotati superano i limiti della quinta se si sono resi necessari milioni di anni per raggiungere questo stadio per oltrepassarlo alla specie umana occorrerà un tempo forse maggiore altri esseri però prima di noi hanno passato questo stadio sul sentiero la nostra specie è la quinta con l'aggiunta di alcuni sviati della quarta esistono pure tra noi anime che staccatesi dalla massa sono giunte alla sesta alla settima suddivisione ed anche oltre alla sesta l'uomo diventa superuomo alla settima ultrauomo quando accennammo ai sette piani minori abbiamo appena nominato i tre piani elementali pur se non ci possiamo perdere in particolari sul soggetto dato che è strano e ho il nostro tipo di trattazione filosofica teoretica possiamo però per chiarirvi le relazioni esistenti tra essi e quelli che noi conosciamo dirvi che tra di essi intercorrono le stesse relazioni che ci sono nel pianoforte tra le chiavi bianche e quelle nere se le chiavi bianche bastano a produrre della musica per alcune scale melodie ed armonie sono necessarie quelle nere la loro funzione con le anime è quella di anelli di congiunzione fra i molti piani raggiungendosi con esse un certo sviluppo grazie a questa spiegazione il lettore potrà comprendere meglio i suoi processi evolutivi ed avere una nuova visione dei salti vitali tra regno e regno gli enormi regni degli elementali sono spesso menzionati da scrittori esoterici e conosciuti da tutti gli occultisti chi avesse letto lo Zanoni di Balwer-Lytton e simili libri saprà senz'altro qualcosa intorno a questi esseri ed ora si dovrebbe passare dal grande piano mentale a quello spirituale ma come si possono spiegare questi altissimi stati d'essere se già ci sfugge il significato delle più alte suddivisioni del piano della mente umana poiché ciò è impossibile dobbiamo limitarci a parlarne in termini molto vaghi infatti come si potrebbe descrivere la luce ad un cieco nato o il sapore dello zucchero ad uno che non ha mai assaggiato nulla di dolce o l'armonia dei suoni a chi è sordo dalla nascita possiamo solo dire in base alle conoscenze che abbiamo che nei sette piani minori del grande piano spirituale stanno esseri i cui attributi vita mente forma sono di una superiorità inimmaginabile rispetto all'uomo più di quanto egli superi un verme un minerale ed alcune forme di materie o energia noi non possiamo nemmeno concepire i particolari della vita di questi esseri tanto trascendono la nostra natura i nostri processi mentali confrontati alle loro menti somigliano a quelli animali e noi possiamo appena pensarle la loro forma è composta di materia dei piani più alti e alcuni di questi piani pare siano rivestiti di pura energia ma cosa possiamo dunque dire di questi esseri forse li chiameremmo angeli arcangeli o semidei sui più bassi piani minori stanno le anime che noi chiamiamo maestri e adepti poi vengono le grandi schiere angeliche a noi ignote ed infine sopra di esse stanno quelli che senza timore di sbagliare potremmo chiamare dei essendo la loro essenza potenza ed intelligenza così elevate da essere al di là di ogni umana comprensione la cui unica definizione può essere divino dei problemi dell'universo si interessa gran parte di essi esplicandovi una funzione considerevole non chiamiamo noi forse quelle divinità invisibili che lasciano la loro impronta sul processo di evoluzione e il progresso del cosmo angeli custodi il loro intervento ed aiuto agli uomini hanno fatto sì che nascessero moltissime leggende usanze credenze ed infine religioni sia nel passato che nel presente sotto la legge divina del tutto esse hanno ripetutamente mostrato al mondo la loro scienza e il loro potere ciò non toglie che anche i più elevati fra questi esseri supremi esistono solo in quanto creati dalla mente del tutto e sono anch'essi soggetti ai processi cosmici e alle leggi universali pur se noi li chiamiamo dei essi sono ancora mortali ovvero quelle anime che sorpassate di gran lunga le altre hanno rinunziato all'estatico riassorbimento nel tutto per aiutare gli uomini nel loro viaggio attraverso il cosmo pur tuttavia sono parte dell'universo e devono soggiacere alle sue leggi il loro piano pur se altissimo è al di sotto dello spirito assoluto ma i profondi insegnamenti sullo stato di esistenza e i poteri dei piani spirituali possono essere compresi solo dagli ermetisti più avanzati dato che quei fenomeni sono di grado talmente superiore a quello dei piani mentali che tentare di darne una descrizione genererebbe solo una terribile confusione solo quelli che o per studi di lunghi anni nelle discipline ermetiche o grazie al retaggio di conoscenze frutto di precedenti incarnazioni hanno la mente particolarmente preparata possono intendere il senso profondo di questi insegnamenti sui piani spirituali e molti di questi ritenuti troppo importanti e pericolosi non vengono resi pubblici dagli ermetisti per spirito ogni persona intelligente se ne renderà conto noi intendiamo secondo i dettami degli ermetisti il potere vivente la forza prima l'essenza vitale eccetera significato da non confondere con quello che si usa generalmente parlando di religioso ecclesiastico spirituale santo immanente eccetera quindi dicevamo che spirito sta per principio animatore racchiudendo questo termine l'idea di potenza forza mistica energia viva eccetera ogni occultista sa che questo potere può essere usato tanto per fini buoni come per fini cattivi in accordo col principio di polarità cosa d'altra parte riconosciuto anche dalla più grande parte delle religioni che mettono accanto ai loro dei buoni satana bel zebu il diavolo lucifero e gli angeli perduti eccetera conoscenza questa dei piani superiori che tutti gli ordini occultistici conservano gelosamente nella camera segreta del tempio ma anche se vi sono stati coloro che impadronitisi di altri poteri ne hanno abusato il loro destino si è reso spaventoso secondo il principio del ritmo saranno costretti a tornare al punto di partenza dell'esistenza materiale e da lì dovranno percorrere di nuovo tutto il cammino sul sentiero ma con la torturante consapevolezza delle altezze da cui sono caduti in seguito al loro agire dissoluto ogni bravo occultista sa che la leggenda degli angeli puniti ha una sua remota verità questo perché l'adoperarsi per ottenere un potere personale ed egoistico sui piani spirituali ha come conseguenza il decadimento spirituale ed il ritorno immediato al punto di partenza è questa la terribile pene inflitta tale anima cui peraltro è data la possibilità di risalire verso l'alto concludiamo ricordandovi che in accordo al principio di corrispondenza per cui come al di sopra così al di sotto i sette principi ermetici sono tutti in funzione su ogni piano sul fisico sul mentale sullo spirituale allo stesso modo si applica a tutti il principio della sostanza mentale dato che tutti sono generati e contenuti nella mente infinita del tutto così possiamo vedere che ovunque agisce il principio di corrispondenza poiché tra ogni piano vi è armonia e accordo perfetto lo stesso vale per il principio di vibrazione infatti le reali differenze che danno origine ai piani hanno alla loro base una differente vibrazione poiché gli estremi dei poli sono opposti e contrari in ogni piano varrà anche il principio relativo quanto al ritmo ben sappiamo che in ogni piano c'è nel movimento dei fenomeni un flusso e riflusso un innalzamento ed un abbassamento un'entrata e un'uscita mentre riguardo a quello di causa ed effetto ci rendiamo perfettamente conto che in ogni piano ogni effetto deve avere la sua causa e viceversa infine dobbiamo riconoscere la stessa regola per il principio del genere dato che l'energia creativa opera sempre in uno dei suoi due aspetti maschile o femminile se l'antichissimo assioma ermetico del com'è al di sopra così è al di sotto è uno dei più importanti principi operanti coi fenomeni universali esaminando anche i rimanenti ci si renderà sempre più conto dell'estrema importanza di portata universale del grande principio di corrispondenza capitolo nono vibrazione niente è in riposo tutto si muove ogni cosa vibra questo terzo grande principio ermetico ci riporta la verità che in ogni cosa dell'universo c'è movimento che nulla è inquieta permanente ma che tutto si muove vibra e circola alcuni antichissimi filosofi greci scoprirono o adottarono nelle loro dottrine questo principio ermetico purtroppo però fu poi per secoli dimenticato da pensatori che nulla avevano a che spartire con l'ermetismo giunti al diciannovesimo secolo con l'avvento della fisica il grande principio venne riscoperto e le ultime ricerche scientifiche hanno ancora una volta confermato la veridicità di questo grande principio ermetico quindi non solo tutto vibra costantemente ma le differenze tra le diverse manifestazioni fenomeniche del potere esistente nell'universo sono proprio dovute al grado e al modo di vibrazione non solo secondo i dettami ermetici anche il tutto esaminato in se stesso sembra essere in costante vibrazione ma con un movimento talmente rapido e così intenso da sembrare in riposo si insegna in merito che ad un'estremità della vibrazione risiede lo spirito all'altra forme di materia assai rozze tra questi due estremi c'è una varietà infinita di modi e gradi di vibrazione la stessa scienza moderna ci insegna che quel che noi chiamiamo materia o energia si risolve in ultima analisi in tipo di movimento vibratorio e molti ormai tra i maggiori scienziati convergono rapidamente sul pensiero occultista secondo il quale anche i fenomeni mentali non sono altro che diversi modi di vibrazione passiamo ora a considerare il punto di vista della scienza sull'argomento innanzitutto essa ci insegna che la materia rende diversamente potenti le vibrazioni dovuta alla temperatura o al calore un oggetto sia esso caldo o freddo ricordiamo che il caldo e il freddo non sono che gradazioni della stessa cosa formano vibrazioni di calore quindi è in un certo movimento avviene quindi che ogni particella di materia dal corpuscolo ai soli sia in movimento molti dei pianeti che ruotano intorno ad un sole hanno anche moto di rotazione su se stessi così i soli si muovono attorno a più grandi punti centrali i quali a loro volta ruotano su punti più grandi ancora e così via fino all'infinito anche le molecole che compongono ogni specie di materia sono in eterno movimento vibratorio le une intorno alle altre così gli atomi formati di ioni elettroni e neutroni sono in stato di rapidissimo movimento e vibrazione circolatorio notiamo dunque che ogni forma di materia rispetta il grande principio lo stesso discorso vale per le forme di energia luce calore magnetismo elettricità ci insegna la scienza sono date dalla connessione di forme in movimento vibratorio con l'etere e forse finanche emanate da esso non c'è ancora una spiegazione valida sulla natura di alcuni fenomeni quali quello della coesione oppure attrazione atomica della gravitazione il più importante e misterioso e quello dell'attrazione cioè del fenomeno per cui ogni massa ogni particella di materia è collegata ad un'altra sono queste tre forme di energia ancora ignota alla scienza eppure gli scienziati ritengono che anch'esse non siano che manifestazioni di una qualche energia vibratoria cosa conosciuta ed insegnata dagli ermetisti da millenni quell'etero universale a cui gli scienziati non hanno ancora saputo attribuire la vera natura è considerato degli ermetisti come una più alta manifestazione di quella che noi chiamiamo impropriamente sostanza eterea essa ci dicono gli ermetisti è dotata di una tenuità ed un'elasticità eccezionali e serve da mezzo di trasmissione delle onde di energia vibratoria calore luce elettricità magnetismo attraverso lo spazio del quale è permeata potremmo quindi immaginarla come un enorme anello di connessione tra materia da un lato e forza dall'altra inoltre essa ha pure un certo grado di vibrazione proprio ci sono scienziati che per mostrare gli effetti delle diverse gambe di vibrazioni hanno preso come esempio una ruota una trottola un cilindro imprimendo loro un forte moto rotatorio proviamo a prendere uno di questi oggetti rallentandone la velocità noi possiamo vederlo ma nessun suono dato dal movimento ci raggiunge aumentiamo la velocità la nota sale di un tono sulla scala musicale aumentandola ancora la nota diventa sempre più alta si giunge così a completare tutta la scala finalmente raggiunto un certo grado di vibrazione si arriva alla nota finale percepibile dalle orecchie umane ecco che il rumore cessa poco a poco e subentra il silenzio nessun suono ci giunge dall'oggetto che ruota essendo il suo movimento divenuto troppo alto perché le sue vibrazioni possono essere percepite dalle nostre orecchie inizia allora la percezione dei diversi gradi crescenti di calore poi trascorso un certo tempo si intravede il suo colore che è di un rosso cupo con l'aumentare del movimento il rosso diventa sempre più brillante ed acceso mutando col progredire della velocità in arancio e quindi in giallo seguono poi il verde l'azzurro l'indaco ed infine il violetto dopodiché l'occhio umano non riesce più a registrare colori pur tuttavia l'oggetto continua ancora ad emanare dei raggi invisibili quelli usati per fotografie ed altri ancora quali raggi X eccetera avviene allora una modificazione nella costituzione dell'oggetto i fenomeni elettrici e magnetici appaiono solo ad un certo grado di vibrazione continuano a vibrare sempre più velocemente le molecole dell'oggetto si disintegrano riducendosi agli elementi originali gli atomi i quali a loro volta si separano ulteriormente in corpuscoli infinitesimali che infine scompaiono dando luogo alla cosiddetta sostanza eterea qui la scienza si ferma ma gli ermetisti ci dicono che aumentando le vibrazioni ulteriormente nell'oggetto si avrebbe un'intensificazione e un passaggio per i successivi stati di manifestazione mentali fino al ricongiungimento col tutto con lo spirito assoluto nota dell'oste voglio farvi presente che questo testo è stato scritto agli inizi del novecento quindi le conoscenze scientifiche raggiungevano solo un certo grado ma l'oggetto muterebbe di natura assai prima di giungere allo stadio di sostanza eterea comunque la spiegazione adottata rimane valida in quanto evidenzia gli effetti raggiungibili con la crescita del moto vibratorio rammentiamo che nella fase in cui l'oggetto emette vibrazioni di luce calore eccetera esso non si modifica totalmente in queste forme di energia ma la libera soltanto grazie al suo moto parzialmente dall'influenza delle sue molecole atomi e corpuscoli infatti queste forme di energia sebbene assai più alte della materia sono da esse imprigionate a causa delle energie che si manifestano e delle forme usate quindi dicevamo restano impigliate nelle loro stesse creazioni cosa d'altra parte che avviene per tutte le creazioni in quanto la forza creante viene involuta racchiusa nella sua creazione ma ci è noto che gli insegnamenti ermetici superano grandemente le cognizioni della scienza attuale insegnandoci che tutto quel che è pensiero dall'emozione alla ragione dalla volontà al desiderio o qualsiasi stato mentale non può essere dissociato da vibrazioni di cui una parte irraggiata all'intorno penetra nelle altrui menti è questo il processo per il quale avvengono i cosiddetti fenomeni di telepatia di influenza mentale ed ogni altra forma di superiorità di una mente su di un'altra peraltro oggi sempre più conosciuti data l'enorme diffusione delle tecniche occulte poiché ogni stato mentale pensiero emozione eccetera è accompagnato dal corrispondente grado di vibrazione esso può essere riprodotto da una forte concentrazione di volontà singola o di più persone proprio come si può riprodurre un tono musicale con la vibrazione fino ad un certo livello di uno strumento allo stesso modo si può riprodurre un colore grazie al principio di vibrazione e alle sue applicazioni sui fenomeni mentali si può sensibilizzare la propria mente fino al grado desiderato raggiungendo l'esatto controllo sulle proprie sensazioni e stati mentali come pure su quelle altrui inviando e riproducendo quelli desiderati in un'altra mente per riassumere si può riprodurre anche sul piano mentale quel che la scienza sa fare solo su quello fisico ovvero vibrazioni all'infinito è chiaro però che per raggiungere tale potere sono necessarie opportune spiegazioni esercitazioni eccetera la scienza che si occupa di tutto questo è la trasmutazione mentale uno dei rami dell'ermetica basterà soffermarsi un attimo su quanto fin qui detto per accorgersi che anche questo principio può essere assoggettato dai maestri e dagli adepti quasi sapessero comandare alle leggi di natura mentre non fanno altro che usare una legge contro un'altra compiendo miracoli quando invece si limitano a mutare le vibrazioni di energia o di materia degli oggetti giustamente disse un antico scrittore ermetico chi impara ad usare il principio di vibrazione ha in mano lo scettro del mondo capitolo decimo polarità tutto è male ogni cosa ha poli per ogni cosa c'è la sua coppia di opposti poiché simile e dissimile sono uguali gli opposti sono identici di natura differendo solo di grado gli estremi si toccano ogni verità non è che mezza verità tutti i paradossi possono essere conciliati è questo il grande quarto principio ermetico grazie al quale gli antichi paradossi che hanno sempre assillato gli uomini possono finalmente essere compresi in fondo a ben osservare l'uomo ha sempre riconosciuto che doveva esistere qualcosa del genere il che ha espresso pur se confusamente con massime ed aforismi per esempio tutto è e non è allo stesso tempo ogni verità è per metà falsa in ogni cosa ci sono due lati c'è un rovescio per ogni medaglia e così via per gli ermetici fra cose che appaiono opposte esiste solo una differenza di grado quindi gli opposti sono conciliabili a coppie e tesi ed antitesi sono identiche per natura differendo solo di grado il tutto avvenendo in forza del principio di polarità i maestri ritengono che questo principio possa essere illustrato convenientemente a tutti in base ad un esame della vera natura delle cose cominciamo col mostrare che materia e spirito non sono che i due poli della stessa cosa e che gli infiniti piani compresi fra essi non sono che diversi gradi di vibrazione anche il tutto e i molti sono la stessa cosa differiscono sempre per il grado lo stesso discorso fanno valere per la legge e le leggi il principio dei principi la mente infinita e le menti finite quanto al piano fisico ripetono la spiegazione per il caldo e il freddo notando che il termometro segna molti gradi di temperatura di cui due sono il più caldo e il più freddo esistendo tra essi diversi gradi di caldo o freddo non esiste l'assoluto tutto dipende dal grado come sul termometro non si può mai dire quando cessa il caldo e inizia il freddo malgrado ciò noi siamo costretti ad usare per comodità i relativi cioè i poli della stessa cosa diremo quindi alto e basso oriente e occidente girando il mondo verso oriente si giungerà un punto che da dove si era partiti sarà detto occidente camminando verso nord ci si troverà a viaggiare verso sud e così via molti gradi intermedi esistono tra luce e oscurità che sono poli della medesima cosa sempre uguale è anche la scala musicale le divergenze tra le due estremità di una chiave sono identiche pur se con molti gradi intermedi lo stesso dicasi per la scala dei colori la sola differenza fra ultravioletto e infrarosso è data da velocità di vibrazioni grande e minuscolo sono relativi come anche fra stuono e silenzio morbido e duro acuto e ottuso positivo e negativo così non c'è un assoluto per il buono e il cattivo chiamiamo buona una parte e cattiva l'altra o viceversa se una cosa è senz'altro meno buona di quella che è immediatamente inferiore eccetera il tutto avviene perché il più e il meno sono dati della posizione sulla scala lo stesso ragionamento è valido sul piano mentale amore ed odio che si reputano normalmente del tutto opposti assolutamente diversi e inconciliabili non sono affatto distinti l'uno dall'altro non esiste amore o d'odio assoluto sono solo due termini che si trovano ai due poli di uno stesso concetto unitario e tra questi due poli opposti vi sono tutti i gradi intermedi così dall'amore passeremo a meno amore e così via fino all'odio il tutto prescindendo dal punto alto o basso da cui siamo partiti tra i diversi gradi di amore ed odio c'è un punto in cui piacere e dolore sono così deboli e vicini da confondersi potremmo usare lo stesso principio per il coraggio e la paura ovunque constatiamo una cosa ci dobbiamo anche accorgere del suo opposto abbiamo i due poli è proprio su queste basi che l'ermetista riesce a trasmutare gli stati mentali entro le linee della polarizzazione il che vale naturalmente solo per cosa appartenenti alla stessa categoria la cui polarità è intercambiabile per cui se l'amore non può diventare orientale o occidentale rosso o violetto può però come spesso accade tramutarsi in odio il quale a sua volta può diventare amore invertendo la polarità e ancora il coraggio si può risolvere in paura il duro nel morbido un acuto in un ottuso il caldo può divenere freddo e così di seguito sempre fra cose della stessa specie ma di grado diverso un codardo ad esempio può aumentando le sue vibrazioni mentali divenire improvvisamente il più intrepido degli uomini un pigro grazie alla polarizzazione divenire attivo fino al grado desiderato spesso lo studioso pur se a conoscenza dei vari processi con i quali le scuole di scienza occulte permutano gli stati mentali di chi segue le loro dottrine non riesce a comprendere il principio che ne è a fondamento ma una volta capito il principio di polarità si rende conto di tutte quelle pratiche oscure non si può cambiare la natura di una cosa in un'altra completamente differente ma cambiamenti di grado nelle stesse cose sono sempre attuabili il che è molto importante per attenersi ad un esempio simile ma sul piano fisico potremmo dire che se è impossibile tramutare il calore in suono acutezza o altezza si può però cambiarlo in freddo con un semplice abbassamento di vibrazioni così si tramutano amore ed odio o paura e coraggio ma non si può tramutare la paura in amore o il coraggio in odio ogni stato mentale ha la sua categoria con i suoi poli opposti che permettono la trasmutazione chi ci segue potrà facilmente notare che sia negli stati mentali che nei fenomeni del piano fisico si possono distinguere i due poli in positivo e negativo ad esempio l'amore è positivo rispetto all'odio il coraggio alla paura l'attività rispetto all'ozio eccetera non solo ma anche a coloro che non conoscono il principio di vibrazione il polo positivo apparirà come più alto di un grado del negativo che infatti domina dato che la tendenza della natura è verso l'attività prerogativa del polo positivo come già abbiamo accennato oltre al cambiamento dei propri stati mentali con l'applicazione del principio di polarità il principio può servire per esercitare la propria influenza mentale su di un'altra mente argomento sul quale esistono innumerevoli testi da molti anni non appena ci si rende conto che è possibile raggiungere un'induzione mentale cioè che si possono produrre stati mentali da altri ci si accorge come uno stato mentale possa essere inviato ad un altro soggetto cambiandone la polarità in quella categoria di stati mentali con l'applicazione di questo principio si possono ottenere ottimi risultati su vari trattamenti mentali prendiamo ad esempio una persona azzurra malinconica e piena di timori un cultore di scienza mentale che con opportune vibrazioni di volontà conduce la sua mente al grado di polarizzazione voluto riesce a comunicare per induzione lo stesso stato mentale su di un'altra persona facendone elevare le vibrazioni finché la persona si polarizza sull'estremità positiva della scala anziché verso la negativa cambiando contemporaneamente le sue emozioni e paure in coraggio e affini stati mentali dedicando molta attenzione al fenomeno vi potrete rendere conto che questi cambiamenti avvengono quasi tutti sulle linee della polarizzazione poiché il cambiamento è di grado e non di genere conoscere questo grande principio ermetico significa per lo studioso comprendere assai più a fondo i propri e gli altri stati mentali egli noterà altresì che questi stati dipendono tutti dal grado e che può di conseguenza cambiare i suoi stati mentali con un innalzamento o un abbassamento di vibrazione rendendosi così padrone e non schiavo degli stessi inoltre grazie a questa facoltà potrà dare un valido aiuto ai suoi simili e mutare secondo metodi ben precisi qualora gli sia utile la polarità nostro consiglio per ogni studioso è di approfondire adeguatamente questo principio con grande vantaggio per molte difficili situazioni capitolo undicesimo ritmo ogni cosa fluisce rifluisce tutto procede per fasi ogni cosa si innalza e cade l'oscillazione del pendolo è sempre manifestata poiché l'oscillazione di destra è la misura di quella di sinistra il ritmo si compensa questo grande principio rende omaggio alla verità che in ogni cosa è presente un movimento ben preciso che si espande in ogni direzione un fluire continuo per ogni oscillazione in avanti una indietro un moto pendolare un'alta e bassa marea questo avviene tra i due poli su tutti e tre i piani fisico mentale e spirituale essendo in stretto rapporto con il precedente principio di polarità il fatto che tra i due poli esista sempre un ritmo non comporta però che l'oscillazione giunga necessariamente alle due estremità ciò avviene anzi assai raramente inoltre è molto difficile stabilire quali siano gli estremi polari comunque l'oscillazione si dirige sempre prima ad un polo e poi verso l'altro e ci sarà sempre per ogni azione una reazione un avanzamento e un arretramento un innalzarsi e un abbassarsi sempre in ogni fenomeno universale questo vale tanto per i soli che per i pianeti gli uomini le piante gli animali i minerali le sorgenti di forza o di energia la materia in genere che anche per la mente e lo spirito è un principio che si manifesta nella creazione e distruzione dei mondi come nel progredire e cadere delle nazioni nella storia di tutte le cose ed infine negli stati mentali dell'uomo partendo dalle manifestazioni spirituali del tutto possiamo vedere come ci sia un'entrata e un'uscita per dirla coi bramini un'aspirazione e un'ispirazione di brama da prima si creano gli universi che raggiunto il più primitivo limite di materialità iniziano la loro discesa si formano così i soli che giunti al massimo della loro potenza cominciano a retrocedere col passare dei millenni si trasformano in masse inerti di materia che soltanto quando giungerà un altro impulso capace di rimuovere le loro energie interne inizieranno un nuovo ciclo solare lo stesso avviene per i mondi essi nascono si sviluppano e muoiono per poi rinascere da capo così avviene per ogni cosa che abbia forma c'è un passaggio dall'azione alla reazione dalla nascita alla morte dall'attività alla stasi e così via all'infinito lo stesso processo ha luogo per le cose viventi anche esse nascono crescono e muoiono per poi ricominciare altrettanto dicasi per tutti i grandi meccanismi culturali o di costume credenze filosofiche mode governi nazioni in ognuno si ha un crescendo fino alla maturità al massimo splendore poi inizia la decadenza quindi sopravviene la morte ed ecco la rinascita il moto oscillatorio è sempre presente la notte segue al giorno come questo alla notte il pendolo uscilla dall'estate all'inverno e viceversa tutto compie il suo ciclo atomi corpuscoli molecole ogni massa di materia non vi può essere cessazione ed è valido per ogni cosa sia per i fenomeni dei diversi piani di vita che per le fasi della giro umano ovunque si manifesta la ritmica oscillazione tra i due poli l'enorme pendolo dell'universo è sempre in funzione come vuole la legge le maree della vita fluiscono e rifluiscono anche gli scienziati attuali hanno ben compreso questo principio considerato come legge universale applicabile a tutte le cose materiali ma gli ermetisti assai più avanti nella conoscenza delle cose occulte sanno che il suo raggio d'azione invade anche le attività mentali dell'uomo sanno pure che lo strano mutamento degli stati d'animo e dei sentimenti apparentemente senza logica è dovuto a questo principio con l'applicazione conveniente del quale ci si può sottrarre ad alcune delle sue manifestazioni che ci stupiscono e addolorano essi si sono resi conto da lunghissimo tempo che se il principio era invariato e sempre operante per i fenomeni mentali c'erano altri due piani in cui si manifestava uno più basso e uno più alto di coscienza il comprendere tutto questo diede loro la possibilità di inserirsi nel piano più elevato sottraendosi così alle oscillazioni del piano inferiore più brevemente l'oscillazione aveva luogo a livello subcosciente per cui l'oscillazione negativa non manifestandosi in termini coscienti non ne pregiudicava le vibrazioni processo chiamato legge di neutralizzazione ovvero innalzamento dell'ego al di sopra delle vibrazioni del piano incosciente di attività mentale qualcosa di simile a quello che avverrebbe sollevandoci al di sopra di una certa cosa e lasciandola passare al di sotto lo studioso molto progredito o un maestro di ermetica riescono a concentrarsi sul polo desiderato e grazie ad un certo procedimento simile ad un rifiuto neutralizzano l'influenza pendolare rifiutandosi di seguire l'oscillazione retrocedente ma soffermandosi sulla posizione acquisita tanto da far sì che il pendolo mentale oscilli solo sul piano incosciente qualsiasi individuo che possegga un qualunque grado di conoscenza delle discipline ermetiche compie più o meno consapevolmente quanto sopraesposto applicando la legge di neutralizzazione ogni volta che non si lascia influenzare dal proprio temperamento o stato mentale naturalmente un maestro ha capacità assai superiori per quel che concerne l'applicazione di questa legge e grazie alla forza di volontà di cui è capace raggiunge uno stadio di equilibrio e serenità mentale quasi inconcepibile per quelli che invece sono in continua balia del pendolo mentale dei sentimenti degli stati d'animo e delle passioni l'enorme importanza di questo procedimento è ben visibile a chiunque sia a conoscenza della varietà contraddittoria dei sentimenti e dell'effimera padronanza di sé che hanno la maggior parte degli uomini basta analizzare un attimo la questione per rendersi conto dell'influenza che le oscillazioni ritmiche hanno esercitato nella nostra vita non è forse vero che a periodi di grande coraggio sono corrisposti altri pieni di timori o che a un momento di grande entusiasmo sia poi subentrato un senso di scoraggiamento la maggior parte di noi però non sospetta minimamente la vera causa di tutto ciò quindi imparare ad adoperare questo principio significa controllare le oscillazioni ritmiche di sentimento e di conseguenza miglior conoscenza di sé e maggior resistenza al pericolo di essere travolti da questi flussi e riflussi infatti malgrado il principio non possa essere distrutto può però essere neutralizzato dalla volontà che è superiore alle sue manifestazioni coscienti se ne riesce dunque a sfuggire gli effetti ma il principio rimane attivo il pendolo oscilla sempre che ne siamo o meno trasportati naturalmente esistono altre spiegazioni del principio stesso come la legge di compensazione cui fa riferimento il chivalion quando giunge al postulato la misura di oscillazione di destra è la misura di quella di sinistra il ritmo si compensa la legge è valida in quanto l'oscillazione verso un polo è causa di un'altra uguale contraria nella direzione opposta l'una bilancia l'altra esempi di questa legge sul piano fisico sono stati ben semplificati da Archimede nella sua legge del pendolo così le stagioni o le maree seguono questa regola e lo stesso avviene per ogni fenomeno del ritmo un pendolo che oscilli per un certo tratto a destra compirà un'oscillazione equivalente a sinistra nello stesso tempo se si lascia un oggetto verso l'alto questi dovrà compiere un paritragitto per tornare a terra la forza che ha un proiettile che cade a terra è uguale a quella di andata eccetera ma gli ermetisti vanno molto più in là nell'applicazione di questa legge essi dicono che è operante anche negli stati mentali umani l'uomo che prova grandi piaceri è anche soggetto a tristi sofferenze mentre chi è poco sensibile al dolore lo sarà altrettanto poco per la gioia anche i porci se soffrono poco a causa del ridotto livello intellettivo non si può dire che godano molto come d'altra parte alcuni animali che sono capaci di grande godimento sono altrettanto soggetti per la loro indole particolarmente nervosa ad alte punte di dolore stesso discorso può farsi per l'uomo ci sono temperamenti poco portati alla gioia e parimenti poco sofferenti altri capaci invece della più grande felicità come del più immenso sconforto di solito in ogni essere piacere e dolore si bilanciano dando piena azione alla legge di compensazione ma ancora gli ermetisti vanno oltre ci dicono che per provare un certo piacere bisogna prima aver conosciuto proporzionalmente anche l'altro polo ma quel che c'è di più saliente nella loro interpretazione è il fatto che il negativo segue il positivo e non viceversa cioè provare un certo piacere non comporta un subitaneo corrispondente dolore ma al contrario nella legge di compensazione il piacere segue un grado di dolore già passato o in questa vita o in precedenti incarnazioni il che apre una nuova dimensione sul concetto di dolore se non esistesse la reincarnazione l'oscillazione ritmica non potrebbe esistere dato che è incessante quindi per gli ermetici il susseguirsi di più individui forma parte di un'unica vita per sfuggire all'oscillazione verso il dolore essi ci dicono bisogna applicare quel processo di neutralizzazione innalzandosi ad un piano più alto dell'io sottraendosi a gran parte delle tristi esperienze di quelli che restano sui piani più bassi noi vediamo che questa legge del compenso opera in tutto l'arco di vita dell'uomo normalmente ognuno paga il prezzo di quel che ha o non ha non si può avere contemporaneamente il denaro e la torta ogni cosa piacevole ha un rovescio quel che uno raggiunge un altro lo perde i ricchi hanno la maggior parte di quello che manca ai poveri mentre questi hanno a volte cose che i ricchi non possono comprare un miliardario grazie ai suoi averi se ha tendenza verso le soddisfazioni materiali può procurarsi cibi più prelevati ma può anche avere dei disturbi epatici tali da impedirgli di goderne e da fargli invidiare l'appetito e la buona capacità digestiva con cui l'operaio con grande piacere prende il suo misero pasto e così vale per ogni altra cosa nella vita ovunque funziona la legge di compensazione cercando di ristabilire sempre il primitivo equilibrio anche se spesso occorrono parecchie vite perché si riesca nell'intento capitolo dodicesimo causalità per ogni causa un effetto ogni effetto ha la sua causa tutto avviene in conformità alla legge il caso è solo il nome per quel che non conosciamo molti sono i piani di causalità ma nulla sfugge alla legge siamo giunti al sesto principio ermetico secondo il quale in tutto l'universo agisce una legge che nulla lascia il caso essendo quest'ultimo solamente un termine indicante una causa occulta o non riconosciuta questa regola è antica quanto il tempo essendo stata esplicata dai maestri ermetici millenni or sono ed ha pervaso tutto il pensiero susseguente avendo per oggetto le dispute sorte tra le varie scuole sull'attribuzione di significato a certe parole o a particolari punti del principio il fenomeno nella sua globalità è stato accettato all'unanimità perché affermare altrimenti significherebbe togliere fenomeni universali dall'ordine eterno e lasciarli alla merced di quel quid senza senso che si chiama caso eppure non ci vuole molto per capire che il puro caso non esiste così lo chiama Webster un presupposto fattore d'attività che però non è forza né legge è un accadimento una causalità ma noi sappiamo che non può esistere qualcosa che si sottragga alla legge al principio di causa ed effetto un elemento del genere sarebbe del tutto indipendente dal movimento ordinario e logico dell'universo ma per essere tale dovrebbe essere superiore a questo mentre noi sappiamo che nulla ci può essere al di fuori del tutto e il tutto è la legge stessa quindi per concludere nell'universo non può esistere qualcosa al di fuori o sopra della legge altrimenti cesserebbe l'ordine e regnerebbe il caos dunque quel che noi chiamiamo caso non è altro che un modo per esprimere delle cause che ci sfuggono e che non comprendiamo in senso etimologico la parola si riallaccia a un termine che indica caduta come quella dei dadi intendendo con ciò un accadimento che non fa capo a causa alcuna ma la caduta dei dadi non è dovuta al caso bensì obbedisce ad una regola ben determinata quella stessa che regola la rivoluzione dei pianeti intorno al sole invece di parlare di caso diciamo piuttosto che le regole che la governano sono così complesse da non poter essere afferrate dalla nostra mente certo bisognerebbe conoscere la posizione del dado nella scatola la forza impressa alla gettata le condizioni della tavola la sua natura la pressione atmosferica eccetera ma al di là di queste cause fisiche ne esistono altre a noi ignote che hanno determinato l'apparizione di un numero e proprio di quello gettando più volte un dado si potrà notare che il numero di cifra apparse si equivarrà all'incirca cioè apparirà un numero quasi uguale di uno di due eccetera così anche per una moneta la prima volta apparirà o testa o croce ma aumentando il numero dei lanci le apparizioni di testa e croce tenderanno sempre più verso la parità questa è la legge delle medie ad ogni modo sia la media che il lancio singolo avvengono in forza della legge di causa ed effetto e se noi ne fossimo conoscenza ci renderemmo conto che il dado non poteva mostrare se non quella faccia tenuto conto delle circostanze e il periodo di tempo in cui avvenne per le stesse cause avremo sempre gli stessi effetti ogni avvenimento ha la sua causa il suo perché niente accade senza una coincidenza di cause lo studio di questo principio ha creato qualche perplessità in quanto molte persone non riescono a spiegarsi come una cosa possa causarne o crearne un'altra in realtà non è che qualcosa ne crea un'altra la causalità non fa altro che rispecchiare gli eventi cioè i fatti che avvengono in seguito ad altri precedenti tutti stabiliti e sviluppati come una grande catena dall'energia creatrice del tutto tra gli avvenimenti esiste infatti una continuità per ogni precedente c'è un conseguente quindi un susseguente e così via c'è sempre una relazione fra quel che è accaduto prima e quello che avverrà dopo proviamo ad immaginare una pietra che staccatasi dalla roccia piombi sul letto di una casetta sottostante da prima diremo che ciò è di peso dal caso ma esaminando meglio la cosa ci potremo accorgere che molte sono state in realtà le cause innanzitutto gli agenti esogeni hanno diminuito la resistenza della roccia e la pietra non più trattenuta è caduta ma potremmo risalire alla natura della roccia stessa quindi alle cause che hanno portato la formazione della montagna del suo sollevarsi in seguito a fattori endogeni bradi sismi eccetera poi bisogna passare all'esistenza del tetto alle altre infinite cause perdendoci sempre più in un intricato sopravvenire di motivi si potrebbe paragonare il numero di cause che sottostanno al più piccolo avvenimento come un granello di polvere che colpisce l'occhio alla parentela di un uomo se si sa con precisione che egli ha due genitori quattro nonni otto bisnonni sedici avi proseguendo all'indietro nelle generazioni il numero di antenati salirà a parecchi milioni impossibili da identificare non è facile riportare il granello di polvere attraverso le ere geologiche fino alla formazione della terra quando forse era parte di un tronco d'albero poi tramutatosi in carbone col processo di fossilizzazione e proseguendo così fin quando si è posato sul nostro occhio per poi proseguire in attesa di nuove vicende esso è stato ridotto com'è ora da una serie di avvenimenti e il suo giro non è ancora terminato è solo l'inizio di una nuova catena di eventi che chissà quante altre ne produrrà col passare dei secoli ad esempio una delle serie di eventi cui ha dato luogo il nostro granello quello di essere descritto in queste righe grazie alle quali il tipografo il correttore di bozze l'editore esplicano un certo lavoro e non solo chissà altri quali effetti produrrà nella vostra e nell'altrui mente e potremmo continuare su questo tono all'infinito tutto questo discorso serve a mettere in luce che nella mente niente esiste grande o piccolo che sia come causa di tutto inoltre mostra assai bene la relatività e l'associazione delle cose pensiamo un po' se nell'età della pietra non ci fosse stato un certo uomo che incontrò una donna noi non saremmo qui ora e l'atto con cui noi scriviamo queste cose e voi le leggete produrrà certamente un'influenza non solo sulle nostre e le vostre vite ma anche su quelle di molte altre persone che vivono o vivranno in un'altra epoca per ogni nostro atto pensiero ci sono migliaia di conseguenze dirette o indirette tutte facenti parte della grande catena delle cause degli effetti non è il caso che ci si soffermi su disquisizioni di libero arbitrio o di determinismo per molte ragioni di cui la più ovvia è che nessuna parte ha mai totalmente ragione o totalmente torto come ci avverte l'ermetismo entrambe hanno una parte di ragione secondo il principio di polarità non sono che i poli opposti alla verità quindi mezze verità quindi un uomo può essere libero ma anche vincolato il tutto a seconda del significato dato alle due parole e dal punto di vista riguardato così si esprimevano sull'argomento gli scrittori antichi tanto più una creazione è vicina al centro tanto più ne è libera viceversa più se ne distacca tanto più soggiace ai suoi vincoli la maggior parte degli uomini è schiava di antichi tabù e dell'ambiente essa è tanto dominata dal pensiero dal modo di vivere e di agire degli altri che anche dalle proprie emozioni e sentimenti pur non avendo alcun controllo di sé e della propria vita se gli viene detto ribatte indignata io faccio quel che voglio faccio quel che credo agisco come mi pare e piace senza però riuscire a spiegare da che cosa ha avuto origine il suo quel che voglio infatti cos'è che fa credere all'uomo che una cosa gli piaccia e un'altra no prendiamo il maestro egli può a suo piacimento cambiare i piaceri e i desideri in altri che nell'ordine sulla scala stanno al polo opposto in pratica egli può voler volere in quanto un certo sentimento su gestione ambientale fa nascere in lui il bisogno di fare in un certo modo purtroppo la maggior parte degli uomini sono mossi come pedine su di una schiacchiera trascinati dai propri e dagli altrui stati d'animo guidati dall'ambiente da qualsiasi fattore esterno obbedendo a forti suggestioni senza opporre alcuna resistenza o esercitare un minimo di volontà poi una volta compiuta la parte loro assegnata nel gioco della vita vengono messi da parte i maestri invece che sanno come condursi si innalzano sul piano della vita materiale mettendosi in relazione con le potenze superiori e riuscendo così a dominare tendenze sentimenti carattere polarità e ambiente muovendo essi stessi il gioco anziché esserne mossi divenendo causanti invece che effetti anche se non possono sfuggire al principio di causalità dei piani più elevati possono però afferrarne le leggi e servirsene per dominare i piani più bassi diventano in tal modo parte integrante della legge e non suoi strumenti se servono sui piani più alti comandano però su quello materiale non dimentichiamo tuttavia che la legge opera sia sui piani più alti che nei più bassi che il caso questo strano e cieco dio è stato da tempo abolito dalla ragione comprendiamo finalmente in base alle conoscenze acquisite che su ogni cosa impera la legge universale che le innumerevoli leggi in cui si articola non sono che manifestazioni dell'unica legge del tutto dicono le scritture che nulla avviene che non sia conosciuto dal tutto anche i nostri capelli sono contati nulla avviene in contrasto con la legge ma ciò non comporta che l'uomo sia solo un automa poiché esso può usare la legge per dominare le leggi perché una volontà più forte prevale sempre sulla più debole finché raggiunge quello stadio per cui sotto la protezione del tutto può ben irridere le leggi fenomeniche riuscite a comprendere l'alto significato di tutto ciò capitolo tredicesimo genere il genere si manifesta in ogni cosa in ogni piano tutto ha il suo principio maschile e femminile passando a questo settimo principio vogliamo attrarre la vostra attenzione sul fatto che il genere ermeticamente inteso è del tutto diverso dal senso ordinario dato al sesso esso trae la sua etimologia dal latino con significato di creazione produzione insomma di qualcosa di molto più vasto di quanto non indichi il sesso che si riferisce piuttosto alle differenze anatomiche tra i due generi maschi e femmine meglio ancora il sesso non è che una delle manifestazioni del genere su un certo piano di quello fisico il piano della vita organica è necessario che questa differenza vi resti bene a mente dato che alcuni scrittori in possesso di una qualche infarinatura ermetica hanno creduto di rinvenire questo settimo principio in strane e repellenti teorie sul sesso compito del genere è quello di creare produrre generare come ben visibile dalle sue manifestazioni su ogni piano fenomenico ciò è difficile da provare scientificamente poiché la scienza non è ancora riconosciuto l'universale applicazione pur tuttavia non mancano le prove scientifiche innanzitutto i corpuscoli gli ioni e gli elettroni che sono alla base della materia e della formazione degli atomi un tempo creduti indivisibili sono una lampante manifestazione del principio per la scienza questi tre elementi ruotano fra loro ad altissimo grado di vibrazione inoltre l'atomo si forma dall'aggregazione di corpuscoli negativi attorno ad uno positivo dunque quest'ultimo esercita una certa attrazione sui negativi rispecchiando in pieno la formula ermetica per cui il principio maschile si identifica col polo positivo e l'altro col negativo occorre adesso dare un certo chiarimento spesso si ha una cognizione del tutto errata sulla qualità del polo negativo della materia elettrica i termini non sono appropriati in quanto positivo significa qualcosa di forte e buono in confronto alla debolezza l'irrealtà del negativo ciò nel significato corrente ma applicarlo all'elettricità è del tutto inesatto in una pila il polo negativo è quello in cui e per cui si generano nuove forme di energia gli scienziati più intelligenti hanno ora sostituito adesso il termine di catodico dal greco indicando appunto discesa generazione eccetera dunque dal catodo emergono gli elettroni e quegli strani raggi che hanno rivoluzionato totalmente qualche decina di anni fa le cognizioni scientifiche esso è la causa di tutti quei fenomeni che hanno fatto rigettare tante tante affermate teorie ora buone solo per gli archivi non solo genera tutti i fenomeni elettrici ma anche le più sottili forme di materia di cui la scienza cognizione tutto ciò giustifica ampiamente la nostra preferenza del termine femmina in luogo di negativo quindi diremo che gli elettroni sono composti di energia femmina cui abbandonando un corpuscolo maschile inizia un nuovo corso il suo impulso creativo la spinge a cercare un nuovo corpuscolo maschile dice ad esempio un ermetista ella cerca immediatamente e volontariamente l'unione infatti alla base della maggior parte dei processi chimici sta proprio questo distacco ed unione sotto l'influsso dell'energia mascolina le particelle femminili vibrano sempre più rapidamente ruotandogli intorno risultante di questo lavorio è la nascita di un nuovo atomo il quale però una volta formatosi perde le manifestazioni dell'elettricità libera e acquista certe proprietà particolari quanto al processo di separazione delle particelle femminili esso si può chiamare di ionizzazione sono proprio i femminili i più attivi operatori sulla natura da essi scaturiscono i fenomeni della luce del calore del magnetismo dell'elettricità di attrazione o repulsione molecolare di affinità chimica e simili sempre sotto il principio del genere il lavoro di creazione viene compiuto esclusivamente dal principio femminile spettando all'altro solo di inviare a questo una certa energia bisogna ricordare però che nessun principio può operare creativamente senza gli altri esistono infatti forme di vita i cui due principi sono riuniti in un solo organismo abbiamo allora un ermafrodito ma ciò non toglie però che in esso siano presenti ambedue i generi non riteniamo necessario soffermarci oltre su questo argomento sebbene gli ermetici vi si dedichino molto questo perché non potremmo convalidarlo scientificamente non essendo la scienza ancora giunta sin qui dovrà bastare a darvi un'idea generale sui suoi fondamenti l'esempio soprannominato degli elettroni inoltre secondo alcuni scienziati nella formazione dei cristalli si può rinvenire qualcosa di simile all'attività sessuale il che denota che anche la scienza moderna si accosta sempre di più alle nostre teorie aggiungendo un sempre maggior numero di prove col passare degli anni ecco quindi dimostrato che il principio del genere è in azione incessantemente sia nel campo della materia inorganica che in quello dell'energia o della forza la stessa elettricità è ora considerata come quel qualcosa in cui paiono mutarsi tutte le altre forme di energia questa nuova teoria diremo elettrica dell'universo è l'acquisto più nuovo e meglio accolto dalla scienza attuale ci riteniamo perciò in diritto di credere che se si può rinvenire alla base dei fenomeni elettrici una chiara manifestazione del principio del genere questa regola può essere estesa a tutti i fenomeni dell'universo tralasciando di soffermarci su fatti scontati come l'attrazione e repulsione degli atomi l'affinità chimica l'attrazione e dispersione molecolare proviamo però a pensarli come manifestazioni del principio del genere non avete notato l'analogia che presentano quei fenomeni degli elettroni e ancora la legge di gravitazione secondo la quale tutte le particelle dell'universo tendono le une verso le altre non è come dicono gli ermetisti un'altra manifestazione del nostro principio certo non possiamo offrirvi le prove di ciò però se riguardate i fenomeni in questione dal punto di vista ermetico vedrete che forse questa è un'ipotesi più ragionevole di quella offerta dalla scienza fisica provate pure a sottoporre ad un esame simile tutti i fenomeni fisici vedrete da soli che il principio del genere è applicabile a tutti ed ora è giunto il momento di considerare l'azione del principio sul piano mentale grande sarà l'interesse che susciterà questa indagine capitolo quattordicesimo genere mentale tutti coloro che studiando psicologia hanno seguito l'evoluzione del pensiero quanto ai fenomeni mentali avranno senz'altro notato la grande diffusione avuta dal dualismo mentale e la conseguente affermazione di molte teorie tutte attendibili circa la natura e la costituzione di due menti già nel 1893 Thompson J. Hudson riscosse un enorme successo con la nota teoria delle due menti l'una oggettiva e l'altra soggettiva che lui diceva essere presenti in ogni individuo altri scrittori hanno invece lanciato il presupposto che esistessero una mente cosciente ed un subcosciente ottenendo pari fama quel che in ultima analisi accomuna però le pur diverse teorie è la base comune della dualità mentale naturalmente il filosofo ermetico non può che sorridere nell'udire queste nuove teorie propugnate da ognuno come se fosse il solo ad aver scoperto una verità vecchia di secoli giungendo infatti ai primordi della storia occulta egli può trovare mille riferimenti all'antica legge del genere come essa si manifesta sul piano mentale si può spiegarla molto brevemente chiaramente a quelli che abbiano conoscenza delle moderne teorie su accennate basti dire che il principio maschile corrisponde alla mente oggettiva cosciente ed attiva mentre il femminile è dato dalla subcosciente involontaria e passiva ovvero la soggettiva gli ermetici però devono rifiutare parecchie concezioni e postulati di queste teorie per quel che riguarda la natura delle due fasi mentali e ritengono molte di esse del tutto infondate comunque noi per facilitare chi legge accenniamo a quel che hanno in comune Hudson dice all'inizio di un capitolo sulla sua legge dei fenomeni psichici come certo ricorderete che il gergo mistico dei filosofi ermetici apre una nuova dimensione quella della dualità mentale se egli si fosse preso la briga di cercare di capire quel gergo mistico forse avrebbe visto sotto una nuova più chiara luce l'argomento in questione ma allora non avrebbe più scritto quel tanto decantato libro ma passiamo ora a descrivere il genere mentale così come ce lo insegnano gli ermetici innanzitutto bisogna riguardare attentamente i rapporti della coscienza con il proprio io ognuno pensa che è la coscienza a metterlo in rapporto e a conoscenza di esso con il noto idioma io sono esaminiamo il problema un po' più a fondo queste parole non rispecchiano tutta la realtà in effetti noi vediamo che quel io sono lo si può prescindere in due aspetti diversi che pur operando insieme possono star separati abbiamo dunque un io ed un me le loro caratteristiche e la loro natura sono ben differenti tanto che osservando i fenomeni che ne scaturiscono si può avanzare di molto attraverso i problemi sull'influenza mentale prendiamo in esame il me normalmente confuso con l'io fin quando non ci si accorge della sua esistenza attraverso un'accurata introspezione come pensa l'uomo al suo me come se esso fosse stato fatto di piaceri dolori gusti abitudini caratteristiche vincoli eccetera alla sua personalità in poche parole pure sa che emozioni e sentimenti nascono si sviluppano e muoiono e sono soggetti al principio di polarità e a quello del ritmo che lo portano dall'uno all'altro estremo e crede di avere del suo me una conoscenza precisa che fa parte di lui in verità il me di molta gente consiste più che altro nella conoscenza del proprio corpo delle proprie tendenze fisiche e così via la loro coscienza è in breve legata del tutto alla loro natura corporea quasi vivessero solo con questa alcuni considerano addirittura le loro disposizioni personali quali parte integranti del me e quindi di se stessi disse al riguardo un celebre umorista che gli uomini sono fatti di tre cose l'anima il corpo e l'abito ma anche per quelli che non hanno la fissazione di una veste personale il corpo è identificato col me non riescono a concepire un io distinto dal corpo quasi che la loro mente fosse un'appartenenza del corpo e non viceversa quando però l'uomo si innalza sulla scala della coscienza può abbandonare l'idea del me come corpo e considerare quest'ultimo come un qualcosa che appartiene alla sua mente ma ancora egli identifica il me con gli stati mentali i sentimenti eccetera che si agitano in lui considerando questi stati esterni come identici a lui e non come prodotti della sua mente facenti sì parte di lui ma ben lungi dall'essere lui medesimo ma ecco che con uno sforzo di volontà egli riesce a cambiare i suoi stati interni producendo sentimenti di natura opposta finché passato un certo tempo inizia a mettere da parte queste emozioni e sentimenti abitudini e qualità ma non può metterli fra le tante curiosità del non me poiché ciò richiede una grande concentrazione mentale che si renderà possibile soltanto dopo molti studi e prove ma una volta riuscito nell'intento il suo io potrà essere osservato nei due aspetti io e me quest'ultimo sarà concepito come qualcosa da cui sono prodotti pensieri emozioni e sentimenti idee ed altri mille stati mentali sarà quella che anticamente veniva detta la matrice mentale in possesso di poteri di creazione e di generazione mentale latenti di ogni tipo si dice che la sua potenza creatrice sia enorme ma sembra anche che essa abbia coscienza di ricevere un altro io prima di poter infondere l'essere alle sue creazioni mentali il che richiede un'enorme capacità mentale e creativa ma non è questo che lo studioso cerca nei più profondi recessi della sua coscienza egli si rende conto dell'esistenza di qualcosa di mentale che può imporre al me di agire sotto certe linee creative e nello stesso tempo può essere spettatore della sua creazione mentale ecco che allora ha scoperto la parte di lui chiamata io ora può finalmente riposare nella propria coscienza sapendo che non si tratta più della consapevolezza della propria abilità nel creare attivamente nel senso di un processo concernente operazioni mentali ma piuttosto della capacità di proiettare dall'io al me creando e continuando un processo di creazione mentale inoltre si rende conto che il suo io può isolarsi e osservare la creazione del me funzioni queste possibili ad ogni persona poiché l'io rappresenta l'aspetto maschile del genere il me il femminile il primo sarà l'essere il secondo il divenire come sul grande piano in cui si creano gli universi anche qui giace il principio di corrispondenza non differendo i due nella specie ma come abbiamo più volte accennato di grado considerare questi aspetti mentali in connessione con i noti fenomeni mentali e fisici apre un non indifferente spiraglio nell'oscuro regno delle manifestazioni mentali tornando ai nostri due principi il femminino tende sempre a ricevere delle impressioni mentre l'altro è sempre volto alla donazione all'espressione quindi il principio femminino ha un campo molto più vasto e svariato che non il mascolino ad esso infatti spetta il generare nuovi pensieri concetti ed idee come pure di sua competenza tutto il campo dell'immaginazione il secondo invece è tutto rivolto al rafforzamento della volontà in ogni sua fase resta di fatto che senza l'aiuto attivo della volontà fornita da questo principio il femminino non riesce a produrre creazioni mentali originali ma soltanto immagini soffermare ininterrottamente l'attenzione e il pensiero su un qualsiasi oggetto significa usare attivamente entrambi i principi l'uno nella generazione mentale l'altro nello stimolare e nel dar forza al precedente in verità però la più gran parte degli uomini usa assai poco il principio mascolino vivendo piuttosto secondo quel che altri io instillano nel me non era di questo però che volevamo parlare dato che potrete trovarne un'ampia trattazione in ogni libro di psicologia mettendolo sotto la nuova luce del genere mentale chi nutre una certa passione per lo studio dei fenomeni psichici avrà senza dubbio sentito parlare di quegli straordinari fenomeni che vanno sotto il nome di telepatia trasmissione del pensiero suggestione mentale ipnotismo eccetera molte spiegazioni sono state cercate in questo senso tutte facenti capo alle teorie sulla mente duale ne si può dire per un certo verso che esse siano del tutto errate in quanto nei fenomeni suddetti si manifestano chiaramente due fasi distinte di attività mentale soltanto però se chi si dedica a questi fenomeni riguarderà tali teorie in conformità con i dettami ermetici sulla vibrazione sul genere comprenderà finalmente di avere in mano la verità osservando un fenomeno telepatico si potrà notare che una massa di energia in vibrazione si proietta dal principio mascolino di una persona a quello femminino di un'altra che riceve il pensiero guida e lo traduce in nuovi impulsi lo stesso criterio viene usato per l'ipnotismo e la suggestione chi dà la suggestione dirige il potere volitivo del proprio principio mascolino verso quello femminino dell'altra persona che accettandolo o non sapendovi si opporre lo fa suo agendo in accordo con esso così un'idea immessa nella mente altrui cresce e si sviluppa dando l'impressione alla persona in cui dimora di essere stata veramente partorita da lui quando invece è come un uovo di cuculo messo in un nido di passero distrutto quel che c'era ivi si stabilisce normalmente nella mente di ogni individuo i due principi del genere agiscono di comune accordo ma spesso purtroppo nell'uomo medio si ha uno scarso sviluppo del potere volitivo e conseguentemente un dominio quasi totale della mente e della volontà di altre persone che si sostituiscono alla loro determinandone azioni e fin anche i pensieri così quante poche volte l'uomo medio pensa con la testa la triste realtà è che la maggior parte delle persone non è che il prodotto o il riflesso di altre la cui volontà è infinitamente più forte la difficoltà maggiore sta nel fatto che questa gente non si rende conto di avere oltre al me quel qualcosa chiamato io che lasciato inattivo si atrofizza e perde di forza guardiamo le cosiddette persone di carattere la loro forza risiede soprattutto nel grande sviluppo del principio mascolino della volontà esse non vivono sul pensiero le impressioni altrui ma hanno il pieno controllo della loro mente cui impongono i pensieri e le immagini desiderate agendo allo stesso modo anche sulle menti altrui basti guardare come inculcano i loro pensieri seme nella mente delle masse costringendole a pensare secondo i loro voleri la massa fa come le pecore non usa mai le proprie capacità mentali ma si limita a seguire gli altri a noi basterà guardarci un po' intorno per notare le mille manifestazioni giornaliere del genere non conosciamo forse persone quasi magnetiche il cui potere volitivo è tale da impressionare gli altri e l'attore quando riesce a commuovere o indignare il pubblico non usa forse lo stesso principio e così ancora per l'oratore l'uomo politico il predicatore lo scrittore e tutti quelli che riescono ad accentrare la pubblica attenzione questa strana influenza mentale cui abbiamo accennato è dunque una manifestazione del genere mentale in funzione delle vibrazioni in questa regola è racchiuso il segreto del successo del magnetismo del fascino e di quei fenomeni che vanno sotto il nome di ipnotismo chi possiede una certa conoscenza dei fenomeni psichici saprà senz'altro quale importanza riveste in questi fenomeni quella particolare forza detta suggestione termine con cui si usa indicare la facoltà di una mente di imprimere trasmettere il proprio pensiero ad un'altra soggiogandola al punto di farla agire a proprio piacimento se assai importante è la conoscenza di questa forza per la comprensione dei fenomeni psichici ancora più lo sarà quella del genere e della vibrazione dato che la suggestione dipende proprio da essi riguardo alla suggestione scrittori e psicologi spiegano che è la mente oggettiva volontaria a suggestionare la mente soggettiva involontaria ciò è esatto però essi non sanno descriverne il procedimento ne sono in grado di fornirci esempi analoghi tratti dalla natura con cui darci un'idea più esatta del fenomeno proviamo a guardare il tutto sotto la luce ermetica l'energia volitiva inviata al principio femminino dal mascolino risulta essere un procedimento del tutto conforme alla legge universale di natura dal cui mondo possiamo ricavare innumerevoli esempi analoghi capaci di farcelo comprendere più a fondo ci dicono gli ermetici che l'universo viene creato seguendo la stessa legge e così pure per ogni altra manifestazione creativa sui piani spirituali mentali e fisici inoltre una volta compreso e analizzato il principio del genere mentale i tanti fenomeni psicologici diventano passibili di acuta classificazione e studio anziché ricadere nell'ignoto in pratica si giunge ad un'elaborazione del principio stesso poiché sull'argomento dell'influenza mentale di qualsiasi genere sono stati scritti molteplici testi di cui alcuni veramente buoni ci sembra inutile fare una minuziosa descrizione dei fenomeni che ne possono derivare anche tenuto conto del fatto che i più importanti tra gli avvenimenti descritti nei libri di cui sopra sono reali malgrado gli scrittori li abbiano spiegati con teorie quantomeno arbitrarie ma il nostro lettore in forza della conoscenza della legge del genere mentale può riordinare tutte queste teorie e rendersene padrone se solo ne avrà la voglia infatti noi preferiamo dare offrire la chiave che apre le varie porte del tempio del sapere piuttosto che dilungarci in un esteso resoconto dei fenomeni psichici ciò perché abbiamo la convinzione che grazie agli insegnamenti del Chibalion si possono trovare una spiegazione per tante delle difficoltà dei problemi misteriosi che ci affliggono a che serve poi esaminare minuziosamente tutte le caratteristiche dei fenomeni psichici quando si può insegnare ad attuarli col Chibalion si possono comprendere tutte le dottrine occulte poiché tutte possono essere ricondotte ai dettami scaturiti dall'antico Egitto e poi diffusisi in ogni dove noi non vi stiamo propinando una nuova filosofia ma vi stiamo erudendo sui punti principali di una dottrina vecchia quanto il mondo con cui potrete chiarire gli altrui insegnamenti e riconciliare diverse teorie in apparenza opposte capitolo quindicesimo assiomi ermetici avere in sé la verità ma non servirsene praticamente potrebbe essere paragonato all'accumulo di pietre preziose cosa assai sciocca ed inutile per la conoscenza come per la ricchezza vale l'uso legge questa di tale portata che chi la trasgredisce è destinato soffrire poiché si volge contro le leggi naturali infatti le dottrine ermetiche ancor prima di penetrare stabilmente nella mente di chi le possiede furono impartite con uno scopo che non era certamente quello di restare inutilizzate ad esse va applicata la legge dell'uso il conoscere senza uso e senza espressione è cosa del tutto vana priva di alcuna utilità per chi lo possiede e anche per gli altri non ritenete per voi quel che avete imparato ma esprimetelo esprimetelo con l'azione studiate pure assiomi ed aforismi ma non scordate di applicarli ora citeremo e commenteremo brevemente alcune tra le più importanti massime ermetiche tolte così come erano scritte dal Kibalion fatene tesoro e badate che non potrete dire che sono veramente vostre fin quando non le avrete usate cambiare temperamento stato mentale vuol dire cambiare la propria vibrazione con uno sforzo di volontà è possibile cambiare le proprie vibrazioni mentali cioè polarizzare la propria attenzione su di uno stato più desiderabile con la volontà si dirige l'attenzione che si muta in vibrazione riuscire a progredire nell'arte dell'attenzione significa riuscire a dominare temperamenti e stati mentali distruggete la parte indesiderata di vibrazioni mentali con il principio di polarità concentratevi sul polo opposto a quello che volete annientare liberatevi dall'indesiderabile invertendo la polarità questo assioma ermetico da annoverare tra i più importanti poggia su vere e proprie basi scientifiche uno stato mentale e quello a lui opposto sono come sapete i due poli della stessa cosa invertibili e a piacere con la trasmutazione mentale gli stessi psicologi moderni sono a conoscenza di questo principio che usano per eliminare abitudini nocive consigliando ai pazienti di concentrarsi sulla qualità opposta se ad esempio siete oppressi da qualche paura non tentate di scacciarla provate invece a coltivare ad accrescere il coraggio e vedrete che essa sparirà c'è chi ha creduto di ravvisare questo concetto in un'analogia quella della camera oscura non si tratta di distruggere l'oscurità basta semplicemente aprire una finestra entrerà luce ed essa scomparirà certamente volete forse eliminare una qualità negativa concentratevi sul lato positivo di essa le vibrazioni passeranno insensibilmente dal negativo al positivo finché vi polarizzerete definitivamente su quest'ultimo ma l'esistenza può anche essere puro dolore come hanno tristemente constatato quelli che hanno lasciato indugiare troppo frequentemente le proprie vibrazioni sul polo negativo cambiando polarità si può dominare il proprio temperamento mutare gli stati mentali le proprie inclinazioni e il carattere la mente i metalli gli elementi possono essere tramutati da stato a stato grado a grado condizione a condizione polo a polo vibrazione a vibrazione la padronanza della polarizzazione equivale alla conoscenza dei principi basilari della trasmutazione ovvero l'alchimia mentale dato che senza la capacità di invertire la propria polarità non si può esercitare alcuna influenza sugli altri e sull'ambiente conoscere questo principio non significa solamente saper cambiare le proprie polarità ma anche quella degli altri sempre che si attribuisca a quest'arte tutto il tempo l'attenzione le prove necessarie a rendersene padroni il principio incorpora una grande verità basta saperlo usare con pazienza ed intelligenza si può neutralizzare il ritmo con un'adeguata applicazione dell'arte della polarizzazione il principio del ritmo come ormai avrete compreso si manifesta sia sul piano fisico che su quello mentale causando secondo l'oscillazione del pensiero mentale che va da un estremo all'altro del sentimento la strabiliante sequenza di emozioni stati d'animo sentimenti diversi che ben conosciamo sapete anche che con la legge di neutralizzazione è possibile su larga scala dirigere le manifestazioni del ritmo nella coscienza questo perché vi è stato insegnato oltre al piano di coscienza ordinario ne esiste un altro più elevato innalzandosi sul quale mentalmente si fa sì che l'oscillazione del pendolo mentale si manifesti solo sul secondo in questo modo soffermandosi sul piano più alto ci si sottrae alla sensazione dolorosa che sempre accompagna l'oscillazione a ritroso il tutto avviene mediante la polarizzazione dell'io più elevato che innalza le vibrazioni mentali dell'ego al di sopra della coscienza ordinaria come già accennato tale processo può essere paragonato al sollevarsi al di sopra di una cosa e lasciarla scorrere sotto di noi ciò riesce all'ermetista progredito che soffermandosi sulla sua affermazione di essere lascia che il pendolo mentale oscilli all'indietro sul piano più basso evitando con ciò di invertire la sua polarità ma pur se in misura minore può riuscire anche qualsiasi individuo dotato di una forte personalità sia o meno a conoscenza della legge mediante il semplice rifiuto di farsi portare indietro dal pendolo delle emozioni quel che non va scordato è che il principio del ritmo è indistruttibile potete solo vincere una legge controbilanciandola con un'altra in modo da ottenere l'equilibrio niente sfugge al principio di causa ed effetto anche se molti sono i piani di causalità inoltre è possibile usare le leggi del più alto per trionfare su quelle del più basso gli ermetisti innalzandosi ad un alto piano di causalità divengono causanti anziché causati così con la padronanza dei loro stati d'animo e dei loro sentimenti neutralizzano il ritmo e sfuggono all'azione della causa e dell'effetto sul piano ordinario mentre le masse sono trasportate dall'ambiente lasciando prevalere gli altrui desideri sui propri le tare ereditarie le suggestioni esterne tanto da vivere come pedine ignare sulla schiacchiera della vita gli ermetisti mettendosi al di sopra di tutte queste cause si creano nuovi caratteri dominano impulsi e sentimenti ed ottengono così nuove qualità e poteri dominando l'ambiente e trasformandosi da pedine in giocatori resti chiaro però che anche queste persone sono soggette al principio dei piani più alti e devono obbedire alle leggi superiori pur tuttavia lo riportiamo sui piani più bassi essi sono dei dominatori né si oppongono al principio poiché i saggi sanno che comprendere la legge ed aderire ad essa significa metterla in funzione in luogo dell'esserne schiavi un po' come un abile nuotatore muovendosi a suo piacimento segue se occorre le onde piuttosto che essere trasportato da una parte dall'altra dai flutti chi comprende tutto questo è assai innanzi sul sentiero per concludere vogliamo ancora una volta centrare la vostra attenzione su questa massima la vera trasmutazione ermetica è un'arte mentale con ciò si rende lustro al principio che dice che la grande opera di dominio sul proprio ambiente è fatta grazie alla potenza mentale quindi esso può essere influenzato solo dalla mentalità è questa la spiegazione di ogni fenomeno o manifestazione mentale che negli ultimi vent'anni ha suscitato tanto scalpore ed attratto tante persone al di là di ogni scuola o dottrina rimane inalterato nel tempo l'eccelso principio della sostanza mentale dell'universo se è vero come è vero che la natura dell'universo è mentale la trasmutazione mentale deve poterne cambiare stati e fenomeni e la mente deve essere la sovrana incontrastata di ogni sua manifestazione comprendete questo e i miracoli e i prodigi non vi sembreranno più tali il tutto è mente l'universo è mentale il Kibalion la locanda della tormenta è stata lieta di presentare il Kibalion dei tre è iniziati grazie per l'ascolto